Oggi è una tappa di un percorso partito molto tempo fa in questa collaborazione nel territorio con la cooperazione sociale e ringrazio anche le altre cooperative che sono presenti. Vedo futura l'associazione La Luna che comunque ha sempre fatto parte del parternariato anche in un primo passaggio oltre al Piccolo Principe e poi anche la cooperativa sociale Granello che adesso non è presente e dove il Piccolo Principe è stato cooperativa a capofila per quanto riguarda la progettualità della Volpe sotto i Gelsi. E dicevo appunto si intreccia poi con la parte intrecciata nel percorso con il PSR proprio perché abbiamo voluto dentro proprio in relazione all'esperienza maturata dentro la Volpe sotto i Gelsi ma anche dall'esperienza maturata nel territorio locale pordenonese proprio valorizzare quella che era l'esperienza dell'agricoltura sociale e del senso che noi diamo di quello che è il sociale e l'educazione. Dentro all'agricoltura quindi proprio per valorizzare quella che è la multifunzionalità dell'agricoltura da una parte è quello di valorizzare il territorio proprio perché crediamo che il territorio questo territorio ma come tutti i territori abbiano la possibilità attraverso appunto quelle che sono la valorizzazione del territorio di quello che è la parte produttiva del territorio dell'agricoltura. C'è l'opportunità di sviluppare dei percorsi di integrazione sociale a partire dall'inclusione sociale ma anche proprio di valorizzazione di quello che è la comunità e per cui è convinti di questo siamo partiti proprio con questo motivo e obiettivo che si intrecciava anche con l'obiettivo del PSR che è quello della valorizzazione di un territorio molto più ampio che parte da Spinbergo fino a Morsano ma con la valorizzazione proprio del territorio e di quelli che sono anche i percorsi di turismo e quindi proprio di rendere come dire promuovere quella che è la parte economica sociale e territoriale. Ecco questa cosa è una cosa che vediamo difficile da costruire ma in cui ci crediamo e che vogliamo perseguire. In modo particolare abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo la possibilità di costruire una rete tra diverse aziende agricole e cooperazione sociale sia di cooperazione sociale che già stavano in rete con la cooperazione sociale ma poi che nel PSR si sono anche inserite proprio per condividere quello che è un percorso e riuscire a costruire insieme quelle che possono essere delle opportunità nuove io dico di servizio sociale che devono nascere dal territorio che non sono solo dentro le istituzioni ma che devono essere opportunità che nascono dal territorio. Ecco io vorrei con l'occasione poi insomma introduco i tre relatori e vorrei ringraziare perché il percorso è stato fatto in collaborazione appunto con il confronto continuo con il piccolo principe in primo con tutti i partner del PSR vedo oltre appunto le altre cooperative sociali anche la Proloco, Casarsa su tutta una serie di opportunità che anche lì dovremmo sviluppare forse e con cooperative di Pordenone, vedo il presidente Luigi Piccolo e con Soform che è un ente formativo che ci ha accompagnato anche nella realizzazione organizzativa degli eventi che abbiamo fatto vedo il presidente Dubolino, Fabio e sicuramente con la parte operativa dei due operatori che abbiamo con noi dal 2021 ecco l'ottoressa Elisa Nardin e l'ottor Federico Berti ecco che sono poi la parte operativa che anche come dire che insieme e nel confronto con le cooperative e le aziende agricole hanno raccolto una serie di elementi importanti e che dovremmo in qualche modo affrontare per poter poi creare quelle opportunità che vorremmo ecco questo è il quarto degli eventi che abbiamo fatto noi siamo partiti con un primo evento dove abbiamo avuto il dottor Antonini Giulio già presente con noi e dove abbiamo con lui avviato insomma questo percorso e poi abbiamo fatto un'esperienza abbiamo fatto un'esperienza andando a conoscere tre realtà nel territorio veneto esperienze proprio di agricoltura sociale e le diverse modalità di fare agricoltura sociale abbiamo fatto un incontro con i diversi partner che erano presenti a questa esperienza un incontro diciamo di restituzione e anche di raccolta degli elementi che potevano essere così che ci potevano far scaturire alcune idee creative e innovative per il nostro territorio e siamo arrivati ad oggi ecco per consolidare alcune cose che abbiamo fatto e quindi abbiamo chiesto ai nostri tre relatori che il dottor Aniris Ution che ringrazio il dottor Giulio Antonini che ringrazio e il dottor Paolo Tomasin che oltretutto sono tre come dire relatori che sono anche vicini al nostro territorio perché o ci lavorano o ci hanno lavorato o comunque che conoscono molto bene o perché ci vivono Paolo anche sì beh insomma ecco e quindi ringrazio anche loro spero di non aver dimenticato nessuno e ringrazio anche le amministrazioni chiaramente qui presenti perché hanno sempre sostenuto il percorso che stiamo facendo sia all'interno della progettazione del PSR sia all'interno dell'ambito stesso se non devo aggiungere altro io passerei la parola ai nostri relatori grazie 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 ecco beh buongiorno grazie dell'invito e della presentazione di Tamara grazie soprattutto perché ho avuto l'occasione di ritornare su un tema che che diciamo ho frequentato qualche anno fa non in maniera approfondita come i colleghi però insomma ehm c'è stato sempre un interesse per me rispetto a questo tema essendo io tra l'altro figlio di contadini per cui questa è una passione che mi rimane dentro è stata l'occasione per appunto fare delle riflessioni di come interpretare questa esperienza dell'agricoltura sociale nell'ambito di quello che sarà o che si spera sia lo sviluppo e l'innovazione nel campo del welfare mi è stato chiesto di parlare proprio in questi termini cioè di capire quali prospettive ci possono essere per l'agricoltura sociale nell'ambito di uno scenario di un orizzonte di welfare generativo io eh attualmente mi occupo a livello regionale di proprio diciamo promozione di forme di innovazione nell'ambito del welfare orientate a quello che eh si può definire welfare generativo welfare di comunità insomma ci sono tante definizioni ma sostanzialmente ruotano attorno ad alcuni concetti che poi proverò comunque a rappresentare io pensavo di eh mi pare che sono 45 minuti circa grosso modo se se ce la fanno raggermi 45 minuti però quando vedo così pensavo di però precisare alcuni aspetti che riguardano il tema del welfare il tema della generatività rispetto al welfare e anche evidentemente capire quali elementi dell'attuale impianto istituzionale normativo nazionale e regionale possono in qualche misura favorire lo sviluppo di queste realtà e a questo riguardo però prima eh volevo io voi lo conoscete a memoria ma io eh ho dovuto riprendere eh la legge del duemila e quindici perché volevo capire bene qual era l'impianto diciamo che le norme sia nazionali che regionali danno a questa realtà e appunto eh vedevo come c'è un taglio che io definisco un po' strumentale la metto così per essere chiaro cioè si dice che eh eh l'agricoltura sociale è diretta a realizzare inserimenti sociolavorativi di lavoro con lavoratori con disabilità prestazioni e attività sociali di servizio per le comunità locali anche per attività abilitative e riabilitative e servizi che affianchino le terapie mediche psicologiche e riabilitative e così certamente è una eh diciamo un'interpretazione di questa realtà dell'agricoltura sociale però ripeto che a me lascia un po' il sapore della strumentalità rispetto al sistema di welfare poi dico perché eh c'ho questa perplessità questo invece è il riferimento eh eh perso tutto controllo perso controllo della meglio se vado così questo invece è il riferimento eh regionale il riferimento regionale dice qualcosa di più e di diverso devo dire mi sembra eh eh più convincente per lo meno per alcuni aspetti perché qui si parla di arricchire l'offerta del sistema integrato di interventi e servizi sociali di quella legge sei con gli interventi innovativi dell'agricoltura sociale e questo anche al fine di promuovere lo sviluppo economico sociale comunitario del territorio ampliando e consolidando le opportunità di inserimento lavorativo sociale ed occupazionale ecco questa eh questa norma regionale oltretutto eh però aggancia eh dell'articolo 10 l'attività del dell'agricoltura sociale con la programmazione sociale regionale piano sociale regionale e piani di zona l'ultimo piano sociale regionale risale mi pare al millenovecentottantotto eh il piano di zona diciamo che da un po' di tempo stenta a a riprendersi quindi c'è indubbiamente una condizione normativa credo anche abbastanza favorente un'interpretazione della della realtà dell'agricoltura sociale in questa regione in particolare ma mi pare che debba ancora decollare ecco questo come prima impressione vorrei però dopo aver detto appunto questo eh questo richiamato questa norma e soprattutto appunto eh evidenziato come ci sia il rischio a me a modo di vedere di operare un riduzionismo interpretativo della realtà dell'agricoltura sociale perché io sono convinto che ci sia in ballo qualcosa di molto più importante che non l'importante ma comunque limitata questione dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate sono convinto che questa esperienza rappresenti qualcosa che ha a che fare con una riconcezione complessiva del modello di sviluppo e lo dico eh provando molto naturalmente sinteticamente a eh a tratteggiare le questioni diciamo le questioni importanti che in questo momento eh caratterizzano eh i sistemi di welfare ma più in generale i sistemi sociali non vi ovviamente tedierò con l'evoluzione dei sistemi di welfare non preoccupatevi soprattutto gli ex studenti perché no non ho nessuna intenzione ma era una diapositiva che mi serviva soprattutto per mettere in relazione una questione per me centrale che i sistemi di welfare i sistemi di protezione sociale quell'organizzazione che le nostre società si sono date per garantire sicurezza e protezione appunto alle persone più fragili che hanno tutto sommato una storia recente perché se ci pensiamo nella storia dell'umanità non è che siano moltissimi gli anni in cui esiste questa forma istituzionalizzata di solidarietà come la definiva Riccardo cioè stiamo parlando di 70 80 anni in cui appunto esiste questa realtà una realtà molto molto importante ma che io dico essere sempre precaria e continuamente reversibile come come condizione basta girare un po' il mondo e si scopre che questo non è affatto scontato come come diciamo realtà sociale ma quello che eh voglio mettere in in evidenza è come eh la l'evoluzione dei sistemi di welfare di cui ci ci dobbiamo almeno eh molto brevemente occupare eh oggi sia in stretta relazione con l'evoluzione dei modelli di sviluppo c'è una relazione stretta tra come si è interpretato lo sviluppo in particolare negli ultimi decenni e come si è conformata l'organizzazione dei sistemi di protezione sociale di welfare lo dico ovviamente per slogan perché sono temi sui quali bisognerebbe entrare con molta più precisione eh e profondità però io qui mi appoggio naturalmente a quella che è l'analisi eh di un autore che secondo me meglio di altri ha messo a fuoco questa correlazione tra eh welfare e sviluppo eh Magatti e che eh identifica queste tre direttrici nell'evoluzione del welfare degli ultimi decenni come trasformazione della società ma anche ovviamente poi come correlato anche del modo con cui la società stessa affronta i rischi sociali attraverso le istituzioni del welfare lui identifica queste tre direttrici il mercato globale con tutto quello che ne consegue che conosciamo ormai bene che abbiamo visto anche in questi ultimi tempi che cosa ha significato il cosiddetto lui lo chiama così sistema tecnico planetario questo questo imporsi del paradigma tecnocratico eh attraverso appunto i dispositivi tecnici in qualche forma sta condizionando in maniera importante anche le forme di relazione tra le persone pensiamo solo alla questione degli smartphone e qualcosa si può intuire e naturalmente una direttrice che ha a che fare con il sistema socioculturale in particolare una certa prospettiva antropologica che si è affermata divisione dell'uomo di un uomo sostanzialmente che deve liberarsi da ogni vincolo da ogni legame di un uomo quindi eh considerato nella sua individualità dove la libertà è considerata appunto come la possibilità di eh di superare ogni vincolo ogni ogni obbligazione eh in una prospettiva eh appunto nella quale il desiderio è reso godimento e in termini di consumo di consumo immediato eh e il consumismo con tutto quello che 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 ne consegue che conosciamo e è una visione in cui ogni significato sostanzialmente si è sfarinato ha preso ha perso di di eh di pregnanza eh una visione cosiddetta dinchilistica della vita del mondo eh tre direttrici che eh avevano promesso uno sviluppo nel quale tutti saremmo stati più ricchi saremmo stati più soddisfatti più pieni di noi questa era la fine della storia diceva qualcuno dobbiamo però constatare che questo modello di sviluppo che eh magari chiama tecnonichilista eh non ha esattamente mantenuto le promesse che che ci aveva fatto e possiamo identificare una serie di 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 focolai di di quella crisi ormai sistemica che 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 conosciamo eh e che sono il portato esattamente di questo modello di sviluppo eh dovevamo essere tutti più ricchi tutti più eh soddisfatti eccetera ci ritroviamo in realtà in una società di gente dove le diseguaglianze la povertà in aumento è aumentata molto le diseguaglianze eh ovviamente eh ancora di più ma anche ci sono situazioni nella quale eh diciamo le problematiche eh legate ad aspetti di carattere psichico sono in potente aumento soprattutto dopo dopo la pandemia quindi siamo più depressi siamo più soli ci sono ormai tre o quattro stati che hanno fatto il ministero della solitudine nella nostra regione è stata fatta la legge per contro la solitudine eh siamo soprattutto i giovani più spaesati qui i problemi beh insomma non serve che vada troppo nel dettaglio ma se parlate con qualche collega delle neuropsichiatrie o con comunque i servizi anche sociali eh sappiamo bene come tutta una serie di problematiche legate appunto ai fenomeni che vedete qui richiamati a all'isolamento sociale all'aumento dei dei suicidi ai problemi legati a disturbi del comportamento alimentare ai problemi legati all'attacchi di panico ai problemi legati genericamente come dire a tutte quelle forme borderline insomma un disagio esteso quotidianamente come dire rappresentato anche dai media che comunque eh mani rappresenta una problematica nuova all'interno dei rischi sociali di cui i sistemi di welfare dovrebbero farsi carico ma che faticano in maniera importante ad affrontare così come faticano in maniera importante ad affrontare quella che è una delle sfide più potenti ovvero sia il tema dell'invecchiamento della popolazione eh sapete bene come la realtà a livello nazionale questo è il rapporto Censis di un paio di mesi fa secondo me molto illuminante da diversi punti di vista e che eh ci mostra come appunto siamo in un invecchiamento della popolazione nazionale ma il dato vero è che a livello regionale questo per esempio vabbè al di là del Giappone questi sono tutti i paesi eh censiti dalla World Bank ma come vedete eh il Friuli Venezia Giulia ha un tasso di invecchiamento o meglio di ultra 65 anni già molto elevato rispetto a non ho citato il tasso di fecondità qui che comunque è tra i più bassi al mondo e immaginate il combinato disposto di queste due condizioni qui ci sono alcune tabelle che ci dico molto aggiornate che ci danno però la cifra di come la nostra regione abbia in particolare un diciamo un problema più serio degli altri eh in termini di sostenibilità rispetto all'invecchiamento della popolazione preparavo questa diapositiva per un convegno di una settimana fa e sono andato a vedermi quelle vecchie io ormai sono più di vent'anni che mi occupo di queste cose e ho scoperto che noi avevamo la struttura demografica avevamo la struttura demografica dell'Italia di oggi vent'anni fa indici indici di vecchiaia indici di eh dipendenza degli anziani tasso popolazione ultra 150 vent'anni fa noi abbiamo quello che oggi è l'Italia 23,7 eccetera in Europa sempre secondo le proiezioni medie tra 15-20 anni ci saranno questi tassi che noi avevamo vent'anni fa a me è sembrato impressionante cioè siamo avanti di 30-40 anni rispetto all'Europa di 20 anni rispetto all'Italia come struttura demografica questo a dire che eh la sfida per la sostenibilità di un sistema di welfare in questa regione è ancora più importante queste sono le proiezioni ad esempio al 2050 vedete c'è un 26% di crescita degli ultimi 65 anni nei prossimi 25 anni ma un 82% di quasi raddoppiano da 50 a quasi 100 mila gli ultra 85 anni che sono quelli che si portano dietro naturalmente i maggiori carichi dal punto di vista poi assistenziale queste sono le proiezioni sulle persone in condizione di non autosufficienza vedete una crescita anche qui di 20 di 15 mila oltre 15-20 mila persone circa e poi quelle a rischio che sono altre 50 mila oltre alle 45 mila appunto che si schima nel 2050 questo è l'andamento vabbè però c'è un altro grafico che secondo me rispetto al tema della sostenibilità va considerato questo è l'indice di care given ratio un indice che ci dice dei potenziali prestatori di cura a domicilio delle persone anziane questo è l'andamento vedete da 1 e 6 per ogni anziano circa si passa quasi a 0 5 per ogni anziano se lo incrociamo col dato degli non autosufficienti ci facciamo un'idea della capacità di tenuta delle reti informali di cura rispetto alla condizione di non autosufficienza degli anziani dico questo perché questo va considerato in una prospettiva di sostenibilità di un welfare universalistico perché è chiaro che se si porranno delle asticelle all'accesso ai sistemi di welfare saremo in un altro regime dove chi magari non può ha accesso chi può deve arrangiarsi o chi è in lista d'attesa deve arrangiarsi allora questo poi naturalmente c'è il focolaio economico finanziario su quale non mi soffermo così come nemmeno su quello energetico ambientale non serve dire granché visto quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in questi mesi su quello sanitario al di là della pandemia ci sono delle problematiche importantissime che abbiamo di fronte e anche qui i sistemi sanitari in particolare non sono pronti ad affrontare questa marea che sta arrivando questo tsunami che sta arrivando anzi già in parte è arrivato legato alla transizione epidemiologica c'è il dottor Carmiello che è un maestro in questo e da anni sta in qualche modo segnalando che questo è un problema enorme e che richiede una trasformazione della rete del sistema dei servizi che ripeto perlomeno a mio modo di vedere non è ancora arrivata anche se alcune questioni vedremo ci sono poi ci siamo anche con la guerra quindi questo focolaio sistemico una crisi sistemica che in qualche modo sta pesantemente condizionando le nostre vite sempre qui il rapporto Censis è molto interessante a me ha colpito questo dato che di fronte al problema pandemia guerra crisi energetica ambientale eccetera le persone anziane bene o male c'è una maggioranza che vuole reagire che vuole provare a mettersi in gioco mentre i ragazzi fino o meglio le persone dai 18 ai 34 anni sembrano prevalentemente considerare hanno la tentazione di restare passivi di non prendere iniziative e di restare chiusi nel proprio privato questo è un punto secondo me molto critico nell'idea stessa della sostenibilità del welfare se c'è un ritiro privatistico di tutti noi in particolare delle persone dei ragazzi delle persone più giovani io credo che il welfare è destinato veramente a fallire a finire a ritornare indietro perché il welfare è una conquista di un di civiltà che presuppone un patto un patto appunto della società dove tutti si mettono in gioco per garantire la sicurezza di tutti c'è una responsabilizzazione collettiva ecco questo è il tema vero secondo me quali strategie possiamo mettere in campo per diciamo evocare una nuova forma di responsabilizzazione rispetto al destino delle persone più fragili che comunque ci potrebbe riguardare e ci riguarda prima o poi a tutti quanti quindi questo dice il census arrivando a questa conclusione abbastanza forte che è la malinconia a definire oggi il carattere degli italiani il sentimento proprio del nichilismo dei nostri tempi corrispondente alla coscienza della fine del dominio onnipotente dell'io ecco questo non lo so se sia esattamente così certamente c'è una situazione di grande sofferenza e di come dire di difficoltà complessiva che è testimoniata anche da questa da questo interessante libro che è stato fatto da da un premio nobel per l'economia Angus Deaton con la moglie ha scritto questo libro morti per disperazione abbastanza recente dove mostra come quel modello di sviluppo di cui abbiamo parlato abbia prodotto un incremento drammatico delle morti legati ai suicidi legati all'uso di droghe di alcol eccetera eccetera un problema di mancanza di senso che determina una come dire un end point un outcome sanitario pesantissimo allora l'assenza di senso come uno dei problemi diceva anche la considerazione conclusiva del census vero delle nostre società allora siamo alla fine dell'individualismo siamo in una fase storica nella quale questa sbornia che abbiamo avuto di un certo modello di sviluppo sta finendo e quindi si deve immaginare e si realizzerà qualcosa di nuovo non lo so non lo so se è veramente la cultura è una certa idea di società che emergeva già ai tempi di margaret thatcher quando diceva che non esiste la società esistono solo individui oggi non sia più presente non non ne sono del tutto convinto vedo che ci sono ancora fortissime come dire forze che stanno condizionando in maniera importante la nostra convivenza il nostro modo di stare nella realtà e anche naturalmente il modo di interpretare il sistema dei servizi di welfare bauman ha parlato e ha sviluppato in maniera molto bauman è quel sociologo che penso tutti conosciamo che ha detto delle cose molto importanti sulle nostre società contemporanea ma due aspetti volevo sottolineare sui quali lui è tornato spesso di questa dittatura della procedura e la diaforizzazione e burocratizzazione come due tratti caratterizzanti i nostri modelli diciamo di vita sociale e io dico caratterizzanti in maniera importante anche spesso l'organizzazione dei sistemi di welfare l'interpretazione cioè di una società e della società e dei sistemi di welfare come una mega macchina dove noi siamo degli ingranaggi funzionali al sistema che è connotato molto spesso da da logiche diciamo di tipo economicistico una mega macchina dove tutto è in funzione appunto di questa di questa logica di funzionamento c'è un bel libro di ben as a young abbastanza recente funzionare o esistere ecco tutta la nostra società e il nostro modo oggi di di interpretare come dicevo lo stare assieme ci sta spingendo verso la logica del funzionamento più che dell'esistenza ce lo diceva moren ce l'ha detto ce lo dice moren ancora oggi in maniera molto molto forte che è necessario realizzare delle resistenze a questa macchina calcolatrice algoritmizzante che riduce la vita man umana alla sua dimensione tecnoeconomica e l'essere umano a un oggetto di calcolo resistenze alla grande macchina che ignora l'affettività umana il piacere il dolore e che è animata dalla ricerca ossessiva e demente della massimizzazione lo dico subito per me la vericoltura sociale è un'esperienza di resistenza alla mega macchina di cui parla anche moren infatti lui dice l'unico modo per riuscire a come dire a immaginare un cambiamento e di aprire delle brecce in questo sistema attraverso quelle che lui chiama oasi di fraternità cioè luoghi dove la fioritura personale si realizza in un contesto di comunità dove l'io in qualche modo impara e si afferma dentro il noi grazie al noi e che queste appunto brecce sono rappresentate da esperienze anche nelle forme che descrive lui esattamente di economia sociale di economia civile in qualche modo di queste esperienze di cui voi siete anche portatori nell'ambito del welfare questo costruire brecce questa è una mia lettura però significa costruire pratiche di servizio che fondate su un approccio contestualista e relazionale cosa vuol dire che vanno allestite delle scene di servizio al di fuori dello spazio vuoto della relazione sociale quegli spazi istituzionalizzanti e istituzionalizzati delle relazioni di cura di assistenza e le altre forme come le chiama anche la laura bore boella il scene dove nei luoghi di normalità della vita ecco questo è un passaggio secondo me molto importante che ritroveremo anche nelle norme gli interventi professionali in questa prospettiva devono incorporarsi nei nei processi diciamo di vita normale negli spazi normali di vita in questo senso contestualista non in luoghi artefatti di vita laboratori più o meno protetti certo possono essere anche questi utili ma nella misura in cui poi introducono a uno spazio reale di vita in grado di far emergere l'empatia dice sempre boella come detonatore appunto di una relazione diversa anche con l'altro di una costruzione di un legame con l'altro nell'ipotesi nella certezza personale che un sistema di welfare non può reggersi se non si rigenerano i legami sociali la rigenerazione dei legami sociali è fondamentale proprio in questa prospettiva di welfare generativo l'infrastruttura vera di ogni forma di protezione sociale sono i legami i legami tra le persone i legami buoni le relazioni positive c'è un c'è una considerazione ecco qui mi mi avvio adesso verso questa come dire rapida serie di riflessioni sul tema del welfare generativo dicevo che c'è una considerazione che ho trovato proprio poco tempo fa di luca fazzi che mi sembra molto pertinente anche questa rispetto e descrive bene quello che è il tema sul quale stiamo ragionando cioè lui dice che c'è un'urgenza nell'ambito delle politiche di welfare che è quella di superare gli approcci riduzionistici che esauriscono gli interventi alla sola sfera tecnico professionale quella mega macchina lì spesso e di cui abbiamo visto prima la rappresentazione del film tempi moderni spesso è una fotografia precisa del funzionamento dei sistemi di welfare certi almeno ambienti dei sistemi di welfare dove tutto viene ridotto a erogazione di prestazioni e lui credo lo colga molto bene quando dice che c'è questo riduzionismo certo che servono anche queste competenze servono le prestazioni ma vanno incorporate negli spazi di vita naturale nelle esperienze di vita vera questo è infatti questo eccesso di tecnica di tecnicalità e di professionismo rischiano di usurare il potenziale di sostegno degli ambienti di vita delle persone e di trasformare il welfare in un'architettura che non ha in grado di incidere veramente sulla vita delle persone è necessario ricomporre la frattura tra il piano tecnico professionale e amministrativo anche amministrativo e le relazioni di prossimità ai mondi vitali delle persone e questo non può che implicare una nuova concettualizzazione eccetera beh il welfare generativo per me ha a che fare con una sfida centrale cioè l'interpretazione dei sistemi di welfare come dispositivi complessi in grado di riattivare il desiderio individuale e comunitario di socialità e di benessere cioè quel desiderio che prima dicevo è stato piegato ed è stato ridotto a godimento immediato quella spinta vitale a innovare a immaginare qualcosa di nuovo di buono di vero per il futuro quella spinta lì che tutti abbiamo dentro va riattivata e i sistemi di welfare devono essere in grado di favorire questa riattivazione e prima ancora che un meccanismo tecnico che ripeto deve esserci ma non può essere ridotto a questo il welfare è un dispositivo di rigenerazione dei legami e fattori di coesione sociale questa è la sfida cioè questa possibilità di reimaginarlo con pratiche concrete come un dispositivo che sa alimentare appunto la rigenerazione del legame e il desiderio individuale collettivo di socialità contro quel privatismo che abbiamo detto essere poi il vero virus che può distruggere i sistemi di welfare ma la generatività è esattamente questa perché è stato detto verso un welfare generativo beh Erickson ha detto chiaramente che cosa ci si riferisce quando si parla di generatività è una potenzialità dell'uomo che lo rende capace di vincere quel ripiegamento su se stesso che tutti abbiamo e di invece in qualche modo orientarsi verso il futuro e orientarsi verso l'altro vincere la stagnazione e andare verso invece la generazione questa è una come dire prospettiva che può essere favorita da determinati contesti sociali istituzionali organizzativi certe culture professionali eccetera il favorire il fatto che le persone come dire vengano sostenute nella loro capacità attitudine che comunque hanno di assumersi la responsabilità nei confronti del destino degli altri che c'è questa prosocialità dentro ma spesso è spenta esattamente da dei contesti che non la rendono come dire che non la valorizzano che non la rendono possibile allora quali tratti ha un sistema di welfare generativo io ho provato a mettere in fila alcune riflessioni poi naturalmente ce ne sono molte altre però dall'esperienza che ho fatto e da quello che ho potuto capire anche grazie ai confronti con gli amici qui e con alcuni che come voi si stanno cimentando concretamente in questi percorsi che un sistema di welfare generativo considera le persone non solo per quello che loro manca i sistemi di welfare oggi spesso sono connotati da un approccio riparativo c'è qualcosa che manca allora c'è qualcuno che ti compensa in quella mancanza ma spesso manca l'approccio invece che valorizza le capacità quello che possono dare ancorché residue delle persone un sistema che lavora sulle competenze dei soggetti non solo sui loro bisogni non solo su quelli che sono appunto le mancanze ma non le considera come individui isolati questo è un grosso limite dell'impostazione dei sistemi di welfare perlomeno di alcuni decenni fa che si stanno trascinando ma li considera come individui persone dentro un contesto sempre noi siamo in una realtà data di relazioni di condizioni specifiche non siamo un'astrazione come però ripeto il mondo dei servizi sociosanitari sociali spesso ha considerato l'utente dei servizi di welfare opera per allestire condizioni di contesto per favorire diciamo così l'esprimersi delle competenze sulle quali c'è stato un investimento da parte dei servizi questo è molto importante questo direi che caratterizza la nuova logica di funzionamento anche del sistema dei servizi non ci si può limitare a lavorare solo diciamo così in termini di intervento individuale sulla riacquisizione delle capacità delle persone bisogna lavorare per trasformare i contesti e renderli più accessibili a queste persone in modo come dire contestuale proprio a questo lavoro sulle persone altrimenti rischiamo di realizzare degli interventi molto frustranti lavorare sui contesti e renderli ripeto più inclusivi vuol dire lavorare per l'inclusività di tutti anche la nostra e poi c'è un sistema che deve spingere sempre di più verso la personalizzazione degli interventi la capacitazione l'empowerment non possiamo soffermarci su tutti questi concetti e sulla centralità dei mondi vitali della società civile organizzata non va più avanti opera per aumentare la responsabilità dei soggetti sociali e renderli protagonisti nei processi appunto di sviluppo locale promuove l'attitudine delle reti sociali a potenziare e difendere i beni comuni un welfare generativo è quello che interpreta la tutela dei diritti sociali come un'occasione per rigenerare le basi della solidarietà nel tessuto sociale valorizzando le relazioni e i legami che esistono ma anche cercando di costruirne di nuovo è costituito da una pluralità di attori dove il sistema pubblico ha più una funzione promozionale di coordinamento di attivazione di regia più che di erogazione diretta e di io credo che vi ritrovate perché questa esperienza è esattamente da come ho letto dai rapporti che mi sono stati dati questo tentativo e quindi credo che si stia effettivamente provando a realizzare una realtà di welfare generativo dove oltretutto il sistema di welfare si propone come un dispositivo in grado di realizzare una correlazione positiva tra welfare e sviluppo locale e qui sta quello che dicevo all'inizio io credo che i sistemi di welfare non debbano interpretare le esperienze di economia sociale come l'agricoltura sociale solo in termini strumentali ma in qualche misura va ribaltata la prospettiva va immaginato che il sistema di welfare è qualcosa che può essere interpretato come un investimento per lo sviluppo locale anche economico attraverso forme diverse di economia è chiaro che vanno immaginati meccanismi amministrativi e organizzativi che lo consentano e che devo dire stentano un po' ad emergere questo è vero però ci sono delle condizioni che in questo momento credo lo potrebbero favorire quindi il tema del welfare e delle risorse in gioco e non sono poche soprattutto in questa regione non come costo da immaginare sempre in riduzione perché impedisce lo sviluppo ma come un investimento per modelli alternativi di sviluppo locale qui c'è un'altra riflessione che mi ha indotto proprio la lettura dei vostri documenti e cioè che oggi non si tratta tanto di aggiungere risorse di aggiungere servizi di aggiungere altre cose il vero tema oggi ma della modernità anzi della post modernità è quello di connettere le risorse perché più che le aggiunte sono le connessioni oggi che determinano un cambio vero del sistema allora adesso vado a concludere con alcuni accenni relativi a quelli che sono diciamo così gli assetti istituzionali organizzativi che possono rappresentare un'opportunità un'opportunità per lo sviluppo di esperienze come quelle dell'agricoltura sociale quello che in questi due anni è emerso soprattutto dopo la pandemia o durante la pandemia è stata credo un'importante consapevolezza che il modello il sistema attuale non regge di welfare e che bisogna riorientarlo lo si dice chiaramente in tutta una serie di norme uscite appunto negli ultimi due tre anni che va riorientato tutto il sistema in che direzione? ma io credo che sia abbastanza evidente lo dice chiaramente ad esempio il PNRR che la direzione del riorientamento del welfare è quello del welfare di comunità adesso che differenza c'è tra welfare di comunità generativa secondo me nessuna per me più o meno sono le stesse cose che vi ho detto prima cioè quell'interpretazione cioè dei sistemi di protezione come un'alleanza estesa come un'idea capacitante cioè che considera le potenzialità dei territori delle persone che interpreta la libertà come libertà positiva non solo negativa libertà di fare non solo libertà da tutto questo è welfare di comunità dove le relazioni e i legami sono l'infrastruttura fondamentale e questo dicevo credo sia passato se pensate solo il DLS 34 il PNRR parlano di infermiere di comunità casa della comunità ospedale di comunità c'è ancora qualcosa di comunità che mi sfugge però tutto di comunità poi vediamo sì esatto tutto di comunità però cerchiamo di capirci se va davvero dietro questa slogan ci sono i presupposti che abbiamo provato a identificare oppure semplicemente rischiano di rimanere appunto degli slogan e le case della comunità rischiano di diventare dei poliambulatori e basta magari più vicini ma si parla di muri e non si parla invece di quelle che sono le relazioni e le connessioni però ripeto perlomeno c'è questa prospettiva dichiarata dicevo il PNRR la missione 6 lo dice in maniera molto specifica che va riorientato il sistema sanitario verso un piampio sistema di welfare comunitario investendo una barca di risorse 4 miliardi ad esempio 4 mi pare solo sull'Adi sull'assistenza domiciliare integrata mi fermo un attimo solo per esemplificare è un'opportunità? eh dipende se come temo quella roba lì dei 4 miliardi sull'Adi si trasforma in come dire in un incremento dell'attività di tutta una serie di società multinazionali che stanno erogando l'assistenza domiciliare integrata in giro per l'Italia e per l'Europa secondo me in una logica strettamente prestazionale prestazioni fatte molto bene però non c'entra niente con quello che dicevamo non sarà certamente un investimento nella logica del welfare di comunità sarà un investimento per ingrassare alcune multinazionali che hanno fatto della terziarizzazione dei servizi tipo le multinazionali dell'ossigeno liquido un'occasione di business e siamo nel paradigma di cui Moren ci ha parlato di nuovo quindi bisogna stare molto attenti in questa fase per come la vedo io è una fase davvero cruciale anche dal punto di vista anche a livello regionale anche a livello regionale c'è una serie di norme che aprono a questa prospettiva qui io credo ancora prima ci sono stati dei lanci diciamo così programmatori nella direzione di quella che io chiamo personalizzazione comunitaria cioè nell'idea che bisogna andare verso una risposta sempre più centrata sulla persona davvero sulla sua esperienza di vita ma non in una logica individualizzante ma sempre dentro un contesto relazionale quindi di comunità vanno tenute assieme queste due dimensioni e qui le norme in particolare la legge 22 di riforma del sistema sanitario nei primi almeno 10-11 articoli e la legge 16 del 22 cioè di novembre la legge quadro sulla disabilità secondo me hanno detto delle cose importanti non vi sto a leggere tutto però indubbiamente alcuni elementi che riguardano appunto il capo cosiddetto dell'integrazione sociosanitaria il fatto stesso che nella legge di riforma del sistema sanitario all'inizio si dica che l'obiettivo è l'inclusione delle persone vuol dire promuovere la salute delle persone è comunque finalizzato anche a garantire che le persone partecipino alla vita sociale allora in questa prospettiva tutta la prima parte è finalizzata alla definizione delle regole per garantire alle persone soprattutto quelle più fragili quindi delle aree dell'integrazione sociosanitaria anziani, disabili, malati di mente salute mentale quindi minori, dipendenze eccetera di avere le risposte adeguate in che termini? è risposte di percorsi nei contesti naturali di vita delle persone basate su progetti personalizzati soprattutto con la priorità della domiciliarità per contenere l'istituzionalizzazione e i servizi anche qui si dice che vanno riorientati verso un'idea che poi è quella del welfare di comunità si parla del progetto personalizzato come il perno di questa diciamo logica di funzionamento e del budget personale di progetto di salute sul quale mi soffermerò però tra un momento perché è molto secondo me è un dispositivo molto importante quando parlavo prima di meccanismi che possono favorire questa logica dell'investimento delle risorse sanitarie anche su prospettive appunto di economia sociale come l'agricoltura sociale credo che il budget di salute sia uno di questi forse tra i più importanti che ha anche l'obiettivo di riorientare l'uso di queste risorse e di riconvertire soprattutto le risorse che oggi vengono utilizzate soprattutto in contesti come dire che hanno a che fare con quello che prima abbiamo chiamato lo spazio vuoto delle relazioni c'è un articolo che parla di innovazione continua e di una logica di accreditamento della rete dei servizi non dei singoli nodi quindi delle alleanze che si realizzano tra i soggetti anche su questo sarebbe utile entrare ma devo chiudere mi mancano pochissime diapositive c'è poi il tema dicevo della legge 16 qui si è andati ancora più espliciti sia nelle ho richiamato solo due cose ma ce ne sono diversi di passaggi per chi ha avuto modo di leggerla che appunto spingono nella direzione che abbiamo letto fino adesso welfare comunitario anche attraverso il sostegno della agricoltura sociale si scrive in un articolo in maniera ripeto esplicita e poi tratta il budget di salute lo riprende dice sì c'era nella legge 22 diciamo qualcosa di più e in questo caso è stato detto qualcosa a mio modo di vedere di molto pesante ve lo sottolineo si dice che è finalizzato agli aspetti legati alla deistituzionalizzazione e alla riconversione delle risorse che è composto da una quota di risorse sanitarie e una quota di risorse sociali e una quota di risorse di altre risorse anche del cittadino eccetera questo era già in qualche modo detto questo però per me è il vero elemento di rottura che anche a livello nazionale è stato ben colto che cosa si dice qui? che la quota di finanziamento riferita ai cosiddetti livelli essenziali di assistenza sanitaria possono essere utilizzati anche nell'ambito di percorsi alternativi anche in un'esperienza di agricoltura sociale guardate che questo fino ad oggi non esiste e vi faccio un esempio concreto per farmi capire perché è un esempio reale è accaduto qualche mese fa un ragazzo con un autismo gravissimo viene accolto in una struttura specialistica della nostra regione alla retta di 520 euro al giorno queste sono le rette più o meno struttura accreditata a gestire situazioni di autismo molto grave non funziona il ragazzo non regge spacca tutto e non riescono a gestirlo due educatori molto bravi si prendono a cuore la situazione e propongono un progetto alternativo dove? in una fattoria sociale una fattoria sociale di questa regione propongono questa realtà e l'azienda sanitaria che fino a quel momento garantiva senza battere ciglio 520 euro al giorno siccome è entrato in un'organizzazione che non c'entra niente con l'erogazione di prestazioni sanitarie non è accreditato non mette neanche un euro qualcuno qui sa che è andata così dopo ci sono stati altri problemi però di fatto quell'esperienza per me è stata rivelatrice del fatto che invece e tra l'altro a quanto ho capito ho saputo costava un terzo di quello che il budget il progetto di quello che costava diciamo in quella struttura ci sono altri esempi analoghi che sono accaduti anche un paio di settimane fa molto simili ma ripeto il sistema delle regole oggi vigente nel sistema sanitario in particolare impedisce di utilizzare una quota di risorse importanti per questi progetti al di fuori di quei contesti istituzionalizzanti di cui abbiamo parlato dire questa cosa invece è dire che se serve io posso utilizzare anche 500 euro al giorno per tenere un ragazzo che sta meglio magari in una esperienza di agricoltura sociale questo è il budget di salute la flessibilizzazione dell'uso delle risorse anche sanitarie perché le risorse di carattere sociale per fortuna hanno già una loro flessibilità nell'utilizzo però le quote rilevanti in questi casi arrivano dal sistema sanitario che si retrae e non riesce o non vuole partecipare proprio per questi problemi di carattere formale questa legge fornisce diciamo l'appiglio fondamentale per invece garantire progetti veramente personalizzati e di maggior qualità della vita per queste persone bene ho qui la descrizione di quello che sono le componenti del budget di salute e poi questa affermazione per cui abbiamo detto che ci sono delle condizioni favorevoli legislative sì lo sono è sufficiente assolutamente no è necessario perché questa norma che ho appena detto ad esempio è una norma necessaria ma assolutamente non sufficiente come spesso può accadere può rimanere lettera morta può rimanere lì e nessuno poi diciamo la declina la implementa nelle pratiche effettive di carattere amministrativo e professionale allora in questo senso va presidiata una serie di snodi importanti nell'organizzazione non posso entrare su questo però oltre alle politiche in termini di norme ci sono i regolamenti i sistemi di finanziamento i sistemi di regolazione della qualità accreditamento i sistemi di programmazione e diverse altre cose tutte devono essere riconformate riconfigurate per rendere effettiva questa prospettiva di personalizzazione e di sostegno effettivo allo sviluppo della comunità quindi per concludere siamo in una fase molto critica critica nel senso che presenta delle opportunità importanti ma presenta anche dei rischi molto importanti può essere che si vada verso un effettivo cambio della nostra della nostro modo di stare di stare assieme la stessa convivenza per me è in gioco quando sono in gioco i sistemi di welfare ma può essere anche che si scivoli sempre di più verso comportamenti individualistici opportunistici ce lo dice chiaramente Moren che la crisi comporta sempre una perdita tanto del determinismo quanto della stabilità e l'aumento di disordine che ne consegue provoca un'accelerazione e siamo in quella fase dopo la pandemia dopo la crisi energetica o durante o durante siamo in quella fase dove c'è un'accelerazione che può essere sia regressiva che progressiva allora a me piace molto Maciado che cosa c'è? Non c'è una strada non c'è una cosa chiara uno sentiero ben definito bisogna farlo bisogna che lo facciamo noi siamo noi a dover visto che siamo in tema di agricoltura tracciare un solco e sperando che non siano come le onde nel mare come dice Maciado grazie 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 Grazie. Allora, ringraziamo il professor Zuttion per l'ampio spettro che ha dimostrato rispetto ai sistemi di welfare inglobabili all'interno dell'agricoltura sociale e viceversa. Adesso passeremo la parola al professor Antonini perché essendo oggi una giornata, un quarto evento di un percorso che vuole dare spunto soprattutto agli attori locali ma anche, non solo, per tutta una serie di suggestioni e ragionamenti e bisogni delle comunità locali rispetto all'integrazione del terzo settore con l'agricoltura. Volevamo capire in che modo era possibile ragionare su un sistema di ricerca e sviluppo rispetto a queste tematiche basandosi sulle contestualizzazioni che il professor Zuttion ha dato rispetto alle opportunità vigenti. Per cui passerei la parola al professor Antonini rispetto a questo. Grazie, grazie Federico, buongiorno a tutti, mi aveva un piacere essere qui anche di nuovo, alcuni di voi ci conosciamo, abbiamo fatto a proposito qualche pezzo di questo tema ed è bello continuare a farlo. Ringrazio molto anche Ranieri perché non ci conosce, non sono più un fratello che un amico e oltre che un collega, nel senso che abbiamo ormai qualche annetto che ci conosciamo e ci frequentiamo. Devo dire la verità che molti degli spunti che lui ha rappresentato di pensiero, ecco per chi non mi conosce io passo per professore, nel senso che ho la fortuna anche come Ranieri di insegnare allo Iuso e all'Università Salesiana, ma attualmente io sono un direttore di una casa di riposo, ma faccio anche libero professionista, lavoro con enti locali, in particolare sui progetti PNRR, sono stato dirigente ai servizi sociali comunali, dirigente di sanità e cooperatore sociale, ma anche ho lavorato con i produttori di vino, ramandolo, refosco, prepotto, refosco di fae, di schiopettino di prepotto, eccetera. E tra l'altro ho lavorato con un professionista che molti di voi conosceranno, Cavaliere Orfeo Salvador, che è stato direttore della Cantina Sociali, questa penso posto, in Casasse per molti anni e con il quale facciamo i progetti di sviluppo locale con i produttori di vino qualche anno fa. Allora, io voglio solo, non ho slide, non preoccupatevi, soprattutto sarò molto breve, voglio solo portare due o tre riflessioni che cercano di stare rispetto a quello che ha detto Ranieri, io mi prendo un po' più libertà anche di lanciare alcune provocazioni perché non avendo un ruolo proprio molto istituzionale, ripeto, lavoro per un ente del terzo settore, una fondazione che ha 200 anni, che gestisce una casa di riposo. Pensate, è un ente di cui è stato presidente anche Pio X, Papa Pio X, e quindi io penso di poter far carriera passando da lì. Volevo solo intanto dire l'importanza di queste cose, cioè ci ho pensato, ci siamo sentiti in questi giorni, ho letto i materiali, quanto sia importante questo lavoro di rete? No, la parola rete, Federico, Elisa e colleghi, torna tantissime volte nei report. Ok, allora io davvero vi rubo pochi minuti solo per dare due o tre spunti che poi, così, su cui pensare insieme, riflettere. Questa cosa della rete, da quanto tempo lo sentiamo, il lavoro di rete, guardo anche Paolo, ed è fondamentale il lavoro di rete. Io, nelle diverse esperienze, voi quei produttori di vino, voi nella gestione dell'isola della Cona, la riserva naturale di fronte a Trieste, che è stata gestita nell'ambito di un progetto di salute mentale, che utilizzavi budget di salute, anche di cui parlava Ranieri, per creare opportunità di inclusione sociale e lavorativa in un ambiente splendido. Mi sono fatto un'idea che la rete non è un obiettivo. Prima cosa, la rete è uno strumento. Cioè, strumento al servizio di che cosa? Perché fare rete è fondamentale, qui ci sono le imprese, profit, cioè ci sono imprese sociali, c'è la pubblica amministrazione, tutti ciascuno quotidianamente assume dei livelli di rischio per stare in questa complessità. anche che Ranieri, professor Zuttiong, ha rappresentato in maniera molto importante. Oggi più che mai, soprattutto dopo il Covid, abbiamo molte meno certezze di prima, abbiamo più fragilità. Confesso che anch'io, per l'ente in cui lavoro, ha 200 anni, ma io non sono sicuro che andrà avanti ancora molto. Perché siamo in un mercato, il nostro sistema di welfare è un sistema di mercato, all'interno dei quali la competizione la fa una SPA, la fa una multinazionale francese che vende gli stessi posti letto, gli fa la piccola cooperativa, la fa la piccola fondazione in cui era precedente anche a Papa Pio X. Allora, la rete è uno strumento di che cosa e perché è importante? Nel report ricorre più volte anche il tema, soprattutto se non sbaglio, rappresentato dalle imprese prof, dalle imprese e delle aziende agricole, che c'è una domanda diffusa di coordinamento. Guardo, in particolare anche l'amministrazione, viene chiesta un po' alla pubblica amministrazione, qualcuno deve mettere, tirare sta rete, ok? E questo sia un elemento di fragilità. Guardate, vi porto un esempio. L'anno scorso, diciamo ancora adesso, ma diciamo l'anno scorso, ho lavorato per qualche mese con un distretto, voi qua si parla di distretto rurale, solidale, di economia civile, con un distretto grosso, mi verrebbe da dire vero, industriale, che è quello di Arzignano, Chiampo, distretto della Concia, della Pelle, Vicenza, che vive questa situazione, non c'entriamo niente, non c'entrano niente, ma mi è venuta in mente questa cosa, c'è un distretto che è leader mondiale del trattamento delle pelli, ma è anche leader di una crisi ecologica ambientale che rischia di far saltare il banco, FAS, inquinamento colossale, ma è anche al centro di una grande crisi sociale, quindi economia, ambiente, crisi sociale. Qual è la crisi sociale? Che non ci sono lavoratori, ma non c'è questa grande propensione ad avere i lavoratori stranieri, ma nello scenario demografico che ha rappresentato Ranieri e chi è che va a lavorare in fabbrica, nelle concerie. Allora, il distretto, che ha piena consapevolezza di questa complessità, per mantenere la posizione sul mercato di leadership mondiale, sta organizzando un grosso progetto, organizzato un grosso progetto, che si articola in otto cantieri, otto temi. La produzione pulita, il ciclo delle acque, l'energia, la comunicazione, la formazione, su otto, indovinate qual è l'ultimo? Quello che si chiama della sostenibilità sociale. È l'ultimo ed è ancora quello alla casella un po' più vuota. Cosa vuol dire? Che noi, naturalmente, i sistemi competitivi, le economie, anche di distretto, giustamente pensano a come stare sul mercato e l'ambiente, perché se no non riesci a vendere i prodotti se non sei compatibile con l'ambiente, e viene il sociale, che in realtà, cogliendo un pochino anche alcuni stimoli che sono venuti fino adesso, dovrebbe essere un po' quella dimensione di senso su cui rimettersi in gioco. Io faccio fatica a vedere, non parlo del presente, ecco vorrei chiarire, non parlo di questa realtà. Ho parlato di Vicenza in particolare adesso, ma faccio fatica a vedere una pubblica amministrazione che è in grado di governare processi di rete che permettono di stare in questa complessità. Allora, forse è una deriva anichilista la mia, è una deriva depressiva. Non è esattamente così. Nelle esperienze fatte, laddove ci sono delle condizioni di qualcuno che si prende delle responsabilità anche verso il prossimo, allora la generatività, la dimensione del cambiamento, le trasformazioni sono rese possibili. Le opportunità di formazione, di lavoro, di miglioramento della qualità della vita sono rese possibili. Un altro elemento che vorrei dire, a cui credo molto, il nostro sistema di welfare, abbiamo assistito a un'importante trattazione sul sistema di welfare, è un sistema che non si è mai pensato nella sua dimensione di ricerca e sviluppo, come se non dovesse essere competitivo a esso stesso. Ma il welfare è una parte fondamentale dell'economia, dei nostri modelli di vita, di sviluppo. Ma se andiamo a vedere qual è la dimensione di ricerca e sviluppo che hanno i modelli di welfare? Dov'è che si fa ricerca e sviluppo? Le imprese la fanno, se no non vendono servizi, prodotti, non vanno nel mondo. Ma il welfare dov'è che si ripensa, si rigenera, fa ricerca e sviluppo di nuove opportunità? Quindi, o, secondo me, la dimensione ricerca e sviluppo, ecco perché l'operazione che oggi siamo a riaggiornare, a rivalutare, a rimotivare e a valorizzare, o un territorio che è un distretto, in questo caso, di economia solidale, che mette insieme i temi dell'agricoltura come bene primario, la terra, il lavoro. Poi, permettetemi un'altra provocazione, non è sempre così chiaro, nitido, che il sociale lo fa la cooperazione sociale. Cioè, il sociale non è di diritto. Il diritto, ok, per legge, le cooperativi sociali fanno sociale, non me ne vogliono i cooperatori. Non tutte, sicuramente le presenti lo fanno, ma in giro per il mondo, non tutte le cooperative sociali fanno un gran sociale, fanno un business mascherato. Invece, tante imprese, che non si chiamano sociali, fanno molto sociale, solo che non lo dicono, non lo raccontano, non hanno tempo di raccontarlo, ma lo fanno. Lo fanno silenziosamente, lo fanno per una responsabilità, per un'etica del lavoro, dell'impresa, dell'economia. Allora, per me è fondamentale che un territorio come questo si faccia delle domande, cerchi delle risposte e si metta in gioco in una dimensione di ricerca, sviluppo, cammino, lavoro di rete, all'interno del quale non ci può essere uno sviluppo locale che non tenga insieme l'economia, in questo caso primaria, la cooperazione sociale, la pubblica amministrazione, che si deve anche molto rivedere, ma come si deve rivedere la pubblica amministrazione? Si devono rivedere anche molte cooperative sociali. Scusate, nell'excursus fatte di organizzazione, sia nel pubblico che nel privato sociale, ci sono delle posizioni ricorrenti, meno credo nelle imprese, perché non te lo puoi permettere, in cui certe prerogative, l'abbiamo sempre fatto così, guida la linea. Allora, se abbiamo sempre fatto così, è andato bene, e questo è lo scenario che viviamo e che abbiamo visto, le due cose, faccio fatica a farle andare insieme. quindi io credo, forse davvero con un tratto depressivo, che i sistemi di welfare andranno verso maggiori disuguaglianze, non solo frammentazioni, ma anche disuguaglianze, perché non tutti i territori saranno capaci di coniugare le risposte alla solitudine, al disegno di un futuro, a un'idea di comunità, a un senso di responsabilità verso il prossimo, a un senso di responsabilità verso la natura, a un senso di rimettersi in gioco, lasciando stare le prerogative, le rendite di posizione che ci hanno reso negli anni, per intraprendere qualche cosa di nuovo. Io non credo che tutti i territori siano in grado di farlo, io non credo che tutte le comunità, con quei tassi di invecchiamento, indici di vecchiaia, ci sono alcuni territori che sono, secondo me, clinicamente già morti, non parlo di questo. L'altro anno ho fatto un lavoro per Cortina, una fondazione per anziani che lavora a Cortina da un pezzo. Uno dice Cortina, ha in mente che cosa? Le Olimpiadi dell'umiltà, Milano-Cortina, quindi Cortina ha 5.000 residenti. Un parroco, intervistato in un'analisi, diciamo un po' sociologica, del territorio, ha detto, questa è già una comunità morta, dei residenti di Cortina da un pezzo, di quelli che vengono da fuori. Dice, si tratta solo di capire come accompagnare la morte, sia in maniera dolce, o in maniera brutta, un po' più. Allora, cosa sto dicendo? Che ogni territorio ha delle sfide apparentemente enormi, non solo apparentemente, ma anche realmente enormi, ma è solo attraverso quello che è un lavoro difficile, umile, di cui spesso fai fatica nella linea del tempo a vedere i risultati. Qualcuno, più di qualcuno, ha detto nel report, eh vabbè, ma qua è tutta teoria, non si fa pratica. Allora, più che un'amministrazione pubblica che faccia coordinamento, sarebbe bello una pubblica amministrazione che riconosca il bello che succede e che si pieghi alla capacità di valorizzare e anche di ripensare i sistemi di finanziamento. Questa cosa che diceva Ranieri, in particolare il budget di salute, è rivoluzionaria. Ecco, quando potremmo spendere di meno e meglio e non fermarci in fronte a un paletto di Renò, sei in una struttura protetta, sì, 500 euro, sei fuori, ti arrangi. Scusa, ma la vita è la stessa? La persona è la stessa. Allora, io credo che ogni territorio che sia un distretto abbia la necessità per stare in questo cambiamento di tenere insieme la rete, la rete strumento, non rete obiettivo. Questo ci permette di parlare, di agire, di pensare quest'azione di crescita, di generatività, di cammino fatto insieme, non solo per quanto riguarda il welfare, non solo l'agricoltura, questo è un modello di sviluppo locale che in questo territorio si esprime così. In una città ci sono dinamiche molto diverse. Però, quello che ho imparato è che ogni territorio può essere un laboratorio. deve attrezzarsi e voi lo state facendo per essere un laboratorio di ricerca e sviluppo perché è un territorio che non è competitivo, non porta economia, non genera reddito, non circola benefici per la qualità della vita delle persone e quindi si inaridisce, perde popolazione. Con Giuliana abbiamo il piacere di condividere un percorso di collaborazione con una ONG che lavora in Albania. giusto? Ho detto giusto. Non ho sbagliato. Partivo così, no, me l'hai detto tu. No, ed è una cosa interessante e Albania, pensate, Albania, è sopra Scutari, una zona montana in cui dei ragazzi delle, una ONG, un'organizzazione non governativa sta investendo da molti anni per far sì che ci siano delle persone che si occupano esattamente, esattamente di queste cose. La gente di sviluppo locale, cioè economia, salute, accoglienza, turismo, prodotti tipici. Un lavoro straordinario che ha fatto Pierpaolo Ambrosi che è stata la prima persona che Caritas di Verona mandò in Albania nel 1991 quando ci furono gli sbarchi e portò le credenziali dell'annunzio apostolico al nuovo governo albanese restando e diventando uomo della cultura e della grande di sviluppo albanese, un italiano, Pierpaolo Ambrosi, lui ha coltivato sempre questa idea. Oggi in Albania l'Università di Tirana fa un corso universitario sulla gente di sviluppo locale che tiene insieme territorio, economia, ci sono slow food, c'è l'Università di Trento, prodotti tipici, filiere, servizi. Quindi la rete è strumento, si mette in rete servizi, si mette in rete capacità di pensare il modo di far fronte alla complessità, se mette in rete una modalità di dialogo che sia veramente anche diverso nei confronti delle pubbliche amministrazioni, lo dico in generale, non lo dico solo per qua, anzi, non mi permetto per qua, ci saranno territori che si attrezzano, che intelligentemente, come voi state facendo, io sono solo voluto dire che state facendo una cosa molto intelligente, urgente, necessaria, basterà. Quando abbiamo cominciato a lavorare, appunto anche con Salvador, tanti anni fa, a Nimis, c'era un territorio che stava organizzando la DOCG, la prima DOCG del vino Ramandolo, e si scommetteva sul fatto che ci voleva un brand, ci voleva un marchio, ci voleva un'associazione, ci voleva un consorzio un po' più solido, all'epoca era presidente Dario Cosche, credo che conosciate, almeno gli amanti del vino, che aveva una gestione un po' così, grandissimo produttore, ma un po', no? Allora, l'investimento che è stato fatto sul lavoro, come quello che state facendo voi, incontri, scriviamo progetti, cerchiamo soldi, portiamo a casa i soldi, li redistribuiamo, valutiamo i benefici, c'è chi c'è stato e chi non c'è stato, chi ha catturato risorse e se le è portate a casa, chi non è riuscito a farlo. Qual è stata la rete? La rete erano delle persone che si sono messe in gioco per creare un qualche cosa in più che non c'era. Allora sono venuti anche quelli di Faedis a dire facciamolo anche noi con lo schioppettino, no, con l'arefosco, e dopo sono venuti anche quelli di Prepotto dove c'era solo Ciala. Allora, le cose cambiano e qui non è che cambiano in generale solo se c'è la cooperazione o se c'è l'impresa, eccetera, è proprio oggi il prodotto composito, l'espressione plurale di intelligenza e sensibilità. È chiaro che è difficile vedere ogni giorno il beneficio sul lavoro che si sta facendo, è difficile, anzi, prevalgono le malinconie, le fragilità, le difficoltà, no, per l'impresa star dietro alle tasse, agli ordini, alle scadenze, alla produttività, la possibilità di vendere, a trovare il personale. Siamo chi più, chi meno, tutti abbastanza sulla stessa barca, come si dice. Però io credo che quello che viene fatto qui non viene fatto da tante parti, o meglio, poi Paolo, anche più autorevole, profondo conoscitore, ma non è che tanti territori si stanno attrezzando con un pensiero come quello che state facendo voi. Un suggerimento, perché il mio titolo alla fine è Idee per modelli di integrazione, è che questo centro di ricerca magari un domani possa diventare un'associazione. Un'associazione all'interno della quale un'associazione può essere di promozione, eccetera, in cui c'è un obiettivo ancora più specifico, valorizzare il territorio, promuovere le realtà di economia solidale, sociale, cioè dove, perché così siamo ognuno nella propria sedia, no? C'è il progetto, lo finanziamo, ma non c'è. L'associazione ci obbliga, intanto stiamo tutti allo stesso tavolo, partecipiamo a un governo di un'associazione che ha uno scopo, un'associazione di scopo, valorizzare l'economia, i prodotti di questo territorio. L'associazione deve vedere il comune, deve vedere ospicabilmente l'azienda sanitaria, deve vedere gli imprenditori, ma soprattutto deve vedere chi ci sta. La strada si fa con chi ci sta. La si farà, andrà bene. non fare quello che state facendo secondo me è già tombale, cioè è già rintanarsi in quella deriva privatistica del responsabilizzante che non crede che ci possa essere un'idea di futuro. Quando ho lavorato nel comune di Sandona di Piave cinque anni come dirigente non abbiamo mai, mi avevano attribuito anche la delega per lavoro fatto negli anni precedenti anche i fondi europei, i famosi fondi europei. e mi hanno detto facciamo uno sportello per i fondi europei, gli ho detto non facciamo nessuno sportello, non facciamo quello che fanno già tanti altri. Che cos'è che sappiamo fare bene? Due, tre cose su quelle centriamo l'organizzazione dei servizi, la ricerca dei finanziamenti. Nel giro di tre anni abbiamo portato a casa diversi soldini che il comune felicemente ha ridistribuito nelle casse un pochino in difficoltà del comune e abbiamo lavorato sulle tecnologie, sulla rigenerazione urbana, sulla mobilità sostenibile, ma l'idea di fondo era sociale. Oggi o lo sviluppo locale è sociale, che è quello che tiene insieme l'idea di uomo, che è quello che tiene insieme il sistema di responsabilità, o se no, che sviluppo è? È quello che Ranieri ci ha anticipato. O riprendo il lavoro dove sono adesso, dico mutuando, o veramente l'idea di uomo è quindi un tentativo di fare ancora, tenere in vita una fondazione che ha 200 anni ma che compete con le multinazionali francese, trova un modo di legarsi alla comunità in cui la rete è rete di relazioni, di nuovi servizi, di andare a casa della popolazione, di ascolto, di multifunzionalità. La parola magica ce l'avete già e da anni. La multifunzionalità vuol dire che tante persone e discipline diverse lavorano insieme sullo stesso obiettivo. O questo avviene se no, semplicemente il mercato che è quello che determina le politiche oltre che lo sviluppo economico, il mercato si mangerà alle organizzazioni un po' più piccole ma scusate non sta succedendo anche nell'economia anche nell'agricoltura. Ci sono delle resistenze cioè delle realtà che resistono. Quindi io non ho un'idea, un modello da proporre se no, dire, non tanto più in là vedrei fare uno step tra virgolette associativo in cui gli obiettivi comuni, le esperienze, questo distretto diventa una realtà giuridica ma non per creare un altro baracone non avete i baraconi ma diciamo il mondo è pieno. ecco, non per creare un posto dove poi assumo qualcuno che ha uno, no, una roba leggera con uno statuto che fa, riprende tutto quello che è stato detto, lo valorizza, lo mette al sistema, lo apprende come impegno. Allora l'amministrazione con i grandi sforzi, con gli impegni, con i mezzi di cui dispone cercherà anche di dare un po' di adesione, di solidità, avrà il problema ma è una partecipata, non è una partecipata. le cooperative aderiranno ma dovranno chiedere la conf, non lo so, le imprese l'adulteranno, ma il fatto di dire c'è un soggetto che si cura della ricerca e sviluppo delle opportunità di economia solidale, sociale, sostenibile come mandato evolutivo. Questo è quello che mi sento di dire, perché soli, la solitudine certo è degli uomini, delle persone, ma è delle organizzazioni, perché le organizzazioni fanno uomini. Se le organizzazioni sono comandate, governate da uomini e persone che hanno un'idea di solitudine, le organizzazioni rimangono sole. Ci sono dei grandi paradossi nel PNRR, nelle misure che si riguardano l'inclusione sociale, ne parlavamo prima, anziani, bisogna fare reti di servizi, no, Raniere, reti di servizi rese possibili dalle tecnologie, eccetera, eccetera. Ma chi fa la rete? L'ambito? Guardo, non è provocazione, lo fanno i comuni, lo fa l'azienda sanitaria, lo fanno le imprese in moto proprio, cioè così, insomma. Le reti si creano attraverso delle persone che hanno delle qualità, delle sensibilità, delle intelligenze come quelle che sono rappresentate qui, che accettano di mettersi in gioco per un destino da costruire che non è per niente sicuro. Questo, probabilmente, forse, potrebbe essere qualche cosa di generativo. Voi avete fatto un bel percorso, state facendo un percorso importante, è chiaro che non sempre si vede subito il risultato, ma non ci sono, o meglio, io credo che non ci siano alternative. Se qualcuno, non solo dei presenti, ma anche di altre persone a cui ci si confronta, rileva che ci sono delle alternative e che quindi le cooperative dovranno restare sempre così, le imprese, colà, il pubblico, colì e magicamente devono fare rete. è un po' complicato. È chiaro che Ranieri ha evocato anche la questione di un impegno comune, ma dico, l'impegno comune può passare anche dal fatto di riconoscere beni comuni delle realtà, dei territori, dove il bene comune non è solo la terra, è un bene anche la cultura, il bene comune è una proprietà intellettuale. Allora alcuni beni comuni possono essere delle imprese che sono riconosciute come bene comune per il valore che svolgono, ma non che gli scarico le borse lavoro e che fa... No. Quando dico la dimensione di ricerca e sviluppo è quella che ci obbliga a ripensare ogni giorno con chi ci sta le migliori soluzioni possibili per stare in un cambiamento che è fatto di una grande complessità. Poi ci si occuperà un po' più di un certo tipo di inserimenti, un po' più di produzioni. Sicuramente mi permetto di consigliare i linguaggi e il tema della comunicazione. io dico un po' sempre è come se dovessimo spiegare quando si parla di queste cose è come se dovessimo spiegarle in una scuola. Vai a spiegarle in una scuola a un distretto di economia sociale solidale. Ci sono delle premesse e gli obiettivi anche un po' a volte di linguaggio vogliamo dire un po' tutto un po' tanto che salviamo il mondo ma poi alla fine facciamo fatica a salvare noi stessi. Probabilmente il linguaggio di oggi e la comunicazione di oggi è anche un po' più semplice la gente non legge linguaggi semplici però l'associazione che cura ha un mandato di ricercare uno sviluppo possibile del territorio a partire dall'esperienza di agricoltura sociale del distretto solidale e che coniuga la dimensione della salute dell'accoglienza della fiducia del lavoro dei giovani dell'economia come mandato elettivo cioè qualche cosa di nuovo che ci tiene insieme sullo stesso tavolo come attori partner non come sistemi di deleghe questo rappresenta anche un'identità questo territorio è un'identità che si rinnova che si rinnova in funzione di chi si mette in gioco no? il valore del tentativo Ranieri prima diceva ci sono dei tentativi anche da fare onestamente io sono veneto ma ho lavorato molti anni qui ma guardo anche con c'è sempre un po' con ammirazione con certi tentativi anche di innovazione che vengono provati e introdotti anche a livello di sistema però guardate tratto depressivo io non mi aspetto grandi rivoluzioni di sistema quindi quando ci aspettiamo il coordinamento di qualcuno dall'alto secondo me rischiamo di continuare ad aspettare viceversa chi sta in alto cioè le istituzioni possono beneficiare di proposte iniziative progettualità spinte stimoli ricerca e sviluppo che sul territorio vengono possono nascere ogni ogni territorio può fare ricerca e sviluppo può essere un territorio generativo può essere un territorio di opportunità e questo è legato non tanto una formula che arriva dall'alto ma dalla capacità delle persone nelle organizzazioni di lavorare in rete come strumento al servizio di un obiettivo che è qualcosina di più importante io ho finito e ho il piacere di passare oltre a Paolo Tomasini grazie bene avete ancora un po' di resistenza non la farò lunga nemmeno io intanto grazie agli organizzatori dell'invito come diceva Tamara c'è gente che abita che è del territorio perché io ho vissuto 25 anni a 200 metri da qui quindi vado a tornare a casa quindi grazie dell'invito però rispetto a questo tema vi propongo una lettura da esterno io me ne sono occupato 10-15 anni da 12 anni fa ho cominciato a occuparmi di agricoltura sociale è stato un bellissimo periodo sia in provincia di Pordenone perché faccio il mestiere di andare a intervistare le persone quindi ho girato per praticamente fattorie sociali fattorie didattiche qui l'abbiamo fatto l'ho fatto nella bassa friulana bellissima zona secondo me la pianura la bassa friulana e l'ho fatto anche nella provincia di Trieste col consorzio Interland che abbiamo fatto un'analisi dell'agricoltura sociale era il 17-16 17 quindi sono passati un po' di anni nella provincia di Trieste giusto per entrare anche in dialogo con le due relazioni che sottoscrivo pienamente che hanno detto per esempio nella provincia di Trieste piccola provincia chi faceva praticamente agricoltura sociale ma in questo caso erano inserimenti lavorativi di persone non era la cooperazione sociale erano piccole aziende familiari questo è stato 33 esperienze abbiamo mappato nella piccola provincia di Trieste oltre a fare anche un'analisi per esempio degli aspetti più naturalistici eravamo un team di un sociologo c'era un agronomo e c'era un antropologo e c'era un'altra figura è stato interessantissimo anche vedere queste interdiscipline e conoscere che a Trieste cosa mi ha incuriosito ve la dico perché mi è rimasta ancora qui c'erano quattro maiali in tutta la provincia voglio dire quattro maiali praticamente quindi quando stiamo nel 2016 ma scusi non eri tu per dire che c'era stato un calodo dopo la guerra pazzesco praticamente e questa specializzazione dei territori mi aveva molto colpito ma ci ritornerò su questo da un po' di anni non me ne occupo più di agricoltura sociale sono abbastanza fuori e volevo provare a leggere l'agricoltura sociale però da occhi esterni da ruoli che sto assumendo in questi ultimi anni che ho assunto in questi ultimi anni lo dico poi cerchiamo di capire anche che cosa c'entra questa cosa con l'agricoltura sociale beh grazie io faccio parte del presidio di Libera di Casasso a San Vito il Tagliamento grazie a questo sono finito in questo osservatorio regionale antimafia del Friuli Venezia Giulia è un organismo nominato dal Consiglio regionale poi vedremo a vedere cosa praticamente l'antimafia la mafia con praticamente l'agricoltura sociale un'altra cosa di cui volevo dire io sono i fondatori e partecipo al forum dei beni comuni dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia che anche questo ha una decina d'anni e ha portato una legge su cui poi vorrei soffermarmi perché il termine distretto viene da lì una legge importante che dovrebbe in qualche modo collegarsi alle leggi regionali di cui anche prima ha parlato molto bene Ranieri è una legge che quasi nessuno conosce adesso magari potrei chiedervi alzarvi la mano quanti conoscono le norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale legge 23 marzo 2017 numero 4 qualcuno l'ho mai sentito nominare? vabbè alziamo chi la sa so che c'è qualcuno che lo sa figuriamoci ci sono alcuni però chi non ha mai sentito parlare di questa legge ok è una legge regionale ok che parla di distretti di economia solidale e parla di beni comuni e parla di alcune cose che riprenderò per collegarle all'agricoltura sociale quindi questi due occhi ne aggiungo un terzo quindi un po' strabico mi sto occupando moltissimo questi ultimi tre anni di impatto sociale che è un tema interessante e vedremo cosa c'entra l'impatto sociale anche con ovviamente i programmi comunitari insomma e tutti ormai le progettualità tra l'altro un dell'ultimo webinar che è stato fatto con praticamente dove c'erano illustravano la nuova PAC la Venerus si è soffermata anche su l'importanza di in qualche modo dar conto dei risultati ma su questo ci tornerò l'ultimo punto allora parto da questi tre aspetti esterni all'agricoltura sociale allora parto più dalla legge insomma ecco oggi è importante secondo me collegare non solamente le persone non solamente i finanziamenti ma anche tutta la normativa che stiamo producendo altrimenti poi praticamente è un disastro proprio per riuscire a lavorare e cercare questo punto che io ho chiamato di dobbiamo lavorare molto negli spazi interstiziali le cose che stanno in mezzo le varie cose contaminarsi poi lo vedremo e questa legge è interessante perché secondo me a parte che abbiamo fatto un percorso se ti ricorderai anche di un confronto tra il percorso dell'agricoltura sociale e praticamente di chi si occupa di economia solidale l'economia solidale giusto per darvi un'idea è una dicitura che in qualche modo vicina all'economia sociale però non è proprio la stessa cosa dell'economia sociale l'economia sociale è di sotto riconosciuta dalle cooperative sociali in primis ma non solo l'economia civile l'economia solidale è qualcosa diverso e quell'economia che però riprendo le parole di Drenieri che diceva l'agricoltura sociale come forma di resistenza alla megamatica al modello di sviluppo che cerca di rimpostare un'economia totalmente diversa al modello di sviluppo dove l'economia sociale a volte fa dei scivolamenti l'economia solidale poi esistono anche leggi che mettono assieme l'economia solidale e l'economia sociale ce n'è in Francia una ma anche questa in qualche modo include l'economia sociale quindi è una categoria un po' più ampia ma un po' più volta a cambiare il modello di sviluppo che abbiamo davanti con tutte le difficoltà però non rimangono le cose teoriche questa legge fornisce alcuni strumenti interessantissimi che si potrebbero utilizzare benissimo nell'agricoltura sociale tra l'altro anche Giuliani ti ricorderai abbiamo cercato di fare dei confronti tra questo gruppo questa associazione che poi è un APS adesso che fa il braccio operativo di questo forum dell'economia solidale che all'inizio è nato praticamente sul seguito se sapete della referente dell'acqua si sono messe 40 associazioni insieme in Friuli da Lega Ambiente insomma l'AIAB quindi ambientaliste praticamente sociali e hanno fatto questo forum dell'economia dei beni comuni che ha portato poi ha scritto praticamente anche se poi praticamente poi è stata un po' rivista dei tecnici della regione quindi non è una vera legge di emanazione popolare però è una legge insomma che ha copiato quella un pochino del Trentino Alto Adige quella dell'Emilia Romagna quindi ci sono altre regioni che si sono mossi in questa direzione per arrivare a alcuni strumenti dico gli strumenti ma poi dico anche le difficoltà di far dialogare queste persone tra l'altro persone come me che stanno da una parte e dall'altra e che poi si scazzano praticamente su alcune cose e non vanno d'accordo non riescono a dialogare questa è un'altra cosa interessante io mi ricordo quell'incontro era stato da mettersi le mani ai capelli c'erano tutti i rappresentanti dell'azienda sanitaria e praticamente di altri che si occupavano dell'agricoltura sociale e questi praticamente rigidi e puri dell'economia solidale del forum che non si sono capiti non ci siamo capiti insomma perché io puoi stare da una parte e dall'altra non capisco di che parte stavo vabbè no alcuni strumenti per esempio uno i patti di filiera i patti di filiera sono una cosa molto interessante cioè mettono c'è un patto tra il consumatore e il produttore cioè della responsabilità del prodotto agricolo non è più solamente chi lo produce ma è anche il consumatore e si fa un patto insieme se l'annata va male non è che ne risponde solamente l'agricoltore ma ne risponde anche tutta la cittadinanza questo è un modo di costruire un welfare di comunità ce ne sono alcuni nel goriziano praticamente hanno fatto un patto di filiera ovviamente sul pane che è la cosa praticamente anche simbolica ci sono ma lì è interessante questi patti di filiera dove si coinvolgono veramente il cittadino con praticamente i produttori e si è tutti responsabili ce ne sono vari esempi in Italia non solamente qui il patto di filiera è sicuramente una cosa molto interessante e poi una cosa che non è ancora partita in effetti è partita nel medio friuli solamente a dicembre le assemblee di comunità l'idea di raccogliere su alcune tematiche i cittadini perché nella comunità ne parliamo molto e giustamente è stato notato che il PNRR è pieno di comunità anche io ho fatto una volta sapete trova parola vengono fuori la lista immensa di comunità del PNRR che poi è comunità secondo me quando si parla tanto di una parola vuol dire che quella cosa non esiste quindi la comunità non esiste bisogna ricostruire comunità e quindi così sembra che vi dicevo le assemblee di comunità sono degli strumenti che dovrebbero essere praticamente realizzati a livello proprio di distretto che poi il distretto coincide con gli ambiti territoriali e sociali e qui c'è già un primo problema i cittadini si sentono di appartenere agli ambiti territoriali no ve lo dico subito dal mio punto di vista qui ci sono altri che possono confermarlo non è che c'è praticamente l'appartenenza all'ambito uno non sa nemmeno che esiste l'ambito molte volte sa che sono esiste i servizi sociali e non sa che praticamente in Friuli si fanno un gestione associata da 38 anni ok ma non c'è l'appartenenza io sento di appartenere a San Giovanni o di Casarsa o dove si è tra l'altro uno di San Giovanni che dice di essere del comune di Casarsa molte volte è stato smentito no tu sei di San Giovanni e di Casarsa non di Casarsa quindi c'è questo campanilismo secondo me pazzesco tra di noi però invece tentare di costruire intanto un senso di comunità e far partecipare tutti i cittadini quindi usciamo un pochino questa è una cosa dalle nostre organizzazioni e andiamo a intercettare anche i soggetti che sono scollegati per fare comunità secondo me bisogna arrivare a quel livello lì c'è ovviamente di fare rete tra le organizzazioni ci ritornerò c'è da fare rete tra le comunità perché non sono comunità autosostenibili da soli nessun distretto è autonomo né dal punto di vista energetico né dal punto di vista alimentare tutti questi aspetti quindi c'è da fare anche connessione tra le varie comunità però anche portiamo dentro persone che non sono collegate a nessuna organizzazione e voi sapete che c'è un fenomeno in crescita di molte persone che sono disposti a fare delle cose per gli altri ma non vogliono appartenere a nessuna associazione si parla di milioni ormai in Italia di cittadini e la pandemia l'ha aumentata notevolmente gente che era disposta andava dal sindaco dall'assessore io voglio fare qualcosa per il mio territorio do a disposizione le mie competenze nel tempo ma non senza appartenere a nessuna associazione ok allora qui è un problema che ponono le organizzazioni ma dalle cooperative sociali ma soprattutto le APS le ODV e tutti gli altri enti o riusciamo in qualche modo a trasformarci a raccogliere questa disponibilità però trasformandosi le organizzazioni oppure perdiamo praticamente tutta una serie di disponibilità che ci sono o viaggiano per proprio a livello singolo individuale c'è dentro molto anche egoismo io faccio volontariato quando mi pare quando voglio praticamente senza nessun vincolo associativo c'è anche questo e non sto dicendo oggi però c'è anche dell'altro forse le nostre organizzazioni devono cambiare se vogliamo recuperare queste disponibilità che comunque esistono e soprattutto tra i giovani che forse non hanno non sopportano più le ritualità di certi tipi assemblee di non valorizzazione ah sì dicono bene entrate giovani nell'organizzazione poi quando cominciano a dire delle rose ma sta al tuo posto insomma anche con la tecnologia vabbè sì però fino a un certo punto quindi io continuo a fare il presidente a decidere tu non partecipa a quello che puoi non c'è mai una valorizzazione quindi c'è questo aspetto secondo me bisogna valorizzare di più e collegare le leggi quindi perché poi quando parlano le varie filiere c'è anche la filiera considerata del welfare insomma ed è fondata su praticamente delle cose molto operative da fare insieme insomma questo è un aspetto ma l'altro aspetto quello la mafia è praticamente l'agricoltura sociale beh la Giuliana potrebbe spiegare meglio di me praticamente i progetti fami stati finanziati come l'agricoltura sociale specie anche l'esperienza del piccolo principe in effetti anche inserendo persone riduce praticamente lavoro nero o praticamente lavoro sfruttato o lavoro insomma che è mafia in termine grande o caprolata ma sicuramente sul caprolato ci sono delle contiguità e quindi anche l'agricoltura sociale facendo inserimenti lavorativi facendo un certo tipo di lavoro potrebbe ridurre praticamente alcune forme di sfruttamento nel lavoro in agricoltura questo è molto interessante l'abbiamo visto nei convegni che abbiamo fatto quanto anche l'agricoltura sociale può entrare in questo vedete che sto mettendo vicino cose che secondo me sembrerebbe a prima vista molto distanti ma secondo me questa è la generatività e l'innovatività dobbiamo unire cose che ci sembrano distanti per generare cose nuove questi spazi interstiziali e un'altra cosa importante secondo me nell'agricoltura sociale si parla poco di ambiente ve lo dico nel terzo settore le cooperative sociali parlano poco di ambiente di agroecologia sociale praticamente tutto l'aspetto qualsiasi relazione sociale di cura è comunque una relazione che è anche ambientale perché la facciamo in un territorio in un caso abbiamo sottolineato la parola territorio quando parliamo di comunità parliamo di persone quando parliamo di territorio parliamo di terra parliamo di alberi di piante di animali praticamente nella prossima PAC c'è un'attenzione pazzesca al benessere animale e allora uniamo il benessere animale all'agricoltura sociale ci sono moltissimi che si stanno praticamente interessando al benessere animale purtroppo molto di più magari che le persone ma questa è la battuta personale andate a vedere il 5 per 1000 le associazioni che si occupano di animali come sono cresciute negli ultimi anni c'è una da Trieste che non esisteva sette anni fa adesso ha recuperato 50.000 euro del 5 per 1000 quindi c'è vuol dire uno spostamento di cittadini che segnano il 5 per 1000 e lo spostano dall'associazione che si occupava di alcune tematiche più con le persone sociali agli animali allora mettiamocelo dentro andiamo a intercettare queste cose e troviamo un'alleanza insieme perché il benessere è rivolto dell'animale mettiamo un animale praticamente un animale insomma anche qui lo sai benissimo anche tu praticamente l'importanza quindi con gli asini non solo ma diventa il benessere anche della persona di vivere in un ambiente effettivamente con tutto quanto e allora recuperiamo questi concetti c'è un libro bellissimo di Arnero che parla di le relazioni sono sempre ecosociali o socioambientali non esiste la separazione quindi cominciamo a vedere l'ambientale nel senso di attenzione all'ambiente di preservazione delle nostre relazioni sociali e prestiamo un po' più di attenzione forse riusciamo a parlare anche con altri gruppi di persone che sono magari più attenti o ascoltano più quella parte lì ecco muoviamoci dentro tutte queste cose piuttosto varie ancora negli spazi interstiziali si parla molto di turismo anche questa cosa qua anche questo va intercettato ma per le cose che diceva anche prima Giulio ci sono molte realtà che fanno socialità e che non lo sappiamo non lo sappiamo intercettare questo è l'importante al di là delle etichette siamo profi non profi pubblico insomma queste ci sono le teniamo ma insomma ne usciamo poi praticamente nel lavorare insomma cerchiamo di andare alle cose effettive ma anche con la cultura ma anche con l'energia le comunità energetiche è un'altra cosa secondo cui non possiamo scollegare praticamente energia da agricoltura da vita da welfare cioè dobbiamo metterci dentro tutto a parte che alcune si chiamano comunità energetiche solidali CES quindi vuol dire che lo fanno per le persone praticamente quindi fanno un'attività proprio di welfare per le persone più marginali e allora intercettiamo queste cose qua quindi se vogliamo fare innovazione dobbiamo uscire dai soliti binari che abbiamo il sociale che sta sempre nel sociale fatto da solamente professioni sociali no assolutamente poi ci ritorno sulla formazione perché l'avete citato nel vostro rapporto come una delle cose anche critiche su cui lavorarci e beh allora vado subito sulla formazione una formazione congiunta ci avevamo tentato allo IUSVE di portare lì tutte le università avevamo fatto un bellissimo incontro se vi ricordate tra praticamente dipartimenti di agronomia piuttosto che di educazione piuttosto che altre cose bisogna mettere insieme saperi poi ci sarà lo specialista l'agronomo che rimane esperto e ci sarà l'educatore ma con le figure intermedie che hanno che sanno un po' di agronomia e che sanno anche un po' di educazione aiuterebbe moltissimo nelle aziende quindi altrimenti devono soborcarsi tutto questo è fondamentale mi ricordo una battuta di un agricoltore della bassa friulana che mi diceva sono contento di avere questo rapporto con l'azienda sanitaria vengono qui una volta alla settimana e li vedo sono appassionati lavorano a terra le persone disabili gli operatori delle cooperative molto meno è stata una cosa che mi sono sottolineato ovviamente non erano tutti però insomma lui faceva questa distinzione guardate che è pazzesco se andiamo a questa immagine la cooperazione sociale vuol dire a poca strada davanti a quell'agricoltore che apprezzava molto praticamente i cosiddetti utenti e non gli operatori però operatori che oltre che a fare gli educatori si abbassano e coltivano prendono una pala e cominciano a lavorare a svancare come gli altri mi sembra che sia inevitabile se vogliamo fare questa roba qua come passione insomma ce ne sono non sto dicendo adesso però volevo sottolineare anche alcune difficoltà agli aspetti critici o l'enogastronomia ce ne sono mille cose che possiamo dobbiamo tentare di mettere assieme le cose più strane più assurde questo è innovazione creatività e dobbiamo un po' lavorare facendolo insieme la difficoltà dicevi giustamente Ranieri di connettere oggi ma connettere a vari livelli però anche che tipo di connessioni facciamo immagino che tutti in questi giorni avete letto cos'è stato dietro il disastro di Crotone della zona della Calabria un aereo di Frontex che diranno un messaggio la capitaneria tutti i soggetti c'è la capitaneria di Porto c'è la guardia di finanza c'è la guardia costiera la guardia costiera risponde al ministro ok la guardia di finanza un altro ministro tutti questi soggetti e si muovono c'è stata una connessione di informazione ma tutto ha capito o ha voluto capire cose diverse come è importante un raccordo continuo tra tutti questi soggetti praticamente anche nei momenti di emergenza quali ci troviamo praticamente nell'agenza critica sociale di raccordare quindi quali tipi di connessioni e poi perché non andiamo d'accordo perché non ci capiamo non facciamo connessione ma scaviamo dentro abbiamo interessi diversi su alcune cose purtroppo non ci crediamo fino in fondo ad alcune cose io vedo la difficoltà poi di di fare queste connessioni perché ci stiamo ma ci stiamo fino a un certo punto non credendoci veramente ci stiamo perché dobbiamo farlo perché ci impone la rete perché ci impongono i finanziamenti che devono essere impartenariati ma non ci crediamo fino in fondo lo facciamo perché non si può stare fuori durante sempre la campagna per il referendum sull'acqua ho fatto un giro per tutta l'Italia mi hanno intervistato le grandi organizzazioni e chiedevamo perché avevano aderito al manifesto di sostegno al referendum per l'acqua ebbene adesso non faccio i nomi ma alcune grandi organizzazioni anche molto visibili in Italia ecologiste lo dicevano fuori dalla registrazione eh ma no si può non sottoscrivere questo manifesto anche se non non condividiamo tutto quello che c'è scritto quindi si sta praticamente fuori o meglio ancora questo è un racconto di uno che conoscete bene di Alberto Grizzo che diceva che ha tentato costruire questo consorzio in montagna stare dentro è più facile per distruggere piuttosto che stare fuori ok quindi alcuni entrano nelle reti quindi non è che facciamo reti con tutti ma c'erano persone che sono entrate nel consorzio perché proprio chiaramente volevano distruggere il consorzio è più facile farlo dall'interno che dall'esterno quindi non facciamo reti con tutti non è una cosa è un strumento come è stato sottolineato molto bene per raggiungere un obiettivo lo facciamo con chi veramente vogliamo raggiungere questi obiettivi però cerchiamo anche di convincere gli altri quelli che sono fuori che magari li convinciamo vado sulla formazione congiunta vi dicevo l'ho già detto su queste cose vado allora verso la fine sulla cosa dell'impatto ecco l'impatto secondo me è un'altra di queste questioni si è presa correttamente che ci porta a riflettere un cambio di paradigma non tanto su quello che facciamo tante riunioni tante partecipazioni alle riunioni tante attività ma i risultati che produciamo che miglioramento produciamo generiamo utilizzato il termine generativo proprio perché generiamo nei beneficiari nelle organizzazioni che ci stanno e che cambiamenti produciamo nel territorio nel benessere nell'ambiente state attenti qui un'altra volta tutto questo settore rischia di essere fregato da altri soggetti pensate alle società benefit che devono fare un rapporto sulla loro praticamente impatto sociale e ambientale se li leggete sembrano già che loro realizzano tutto quello che dovremmo realizzare per l'economia sociale solidale pur sapendo che poi dietro alcuni lo fanno seriamente altri c'è molto greenwashing come si dice lo fanno pur per la facciata però intanto rimaniamo fregate noi dobbiamo copiare rincorrere modelli di altri che stanno mettendo numeri su numeri dicendo guardate io sto preservando l'ambiente e voi noi praticamente che lo facciamo da più tempo con più esperienza con più attenzione non riusciamo a raccontarlo a documentarlo prima di tutto e a dirlo e poi però spostiamoci anche noi un po' non mi interessa quante attività facciamo tante cose cerchiamo di concentrarci in modo che cambiamenti produciamo di benessere sulle persone e sull'ambiente tra l'altro è anche una chiave progettuale voi sapete perché adesso la PAC ma anche i progetti comunitari dal PNR a tutti gli altri cominciano a dire ok ma praticamente come cambierai il territorio l'ambiente da qui ai prossimi anni o il benessere delle persone quindi vi impongono di ribaltare la cosa di non guardare a quello che si fa ma alle trasformazioni che siamo in grado di mettere in moto è un cambio di paradigma di pensare quando io penso qualcosa da fare dovrei prima pensare che miglioramento otterranno tutti praticamente le persone che in qualche modo seguiranno questa attività e prima ancora una cosa da fare di mettersi a fare qualcosa vediamo chi sta già lavorando sul territorio molte volte noi ci mettiamo a fare delle cose in parallelo ad altri soggetti e qui nascono poi i conflitti fermiamoci cerchiamo di capire che benessere e soprattutto chi sta già lavorando cerchiamo di interconnettersi a chi sta già lavorando vedendo se c'è sintonia poi se non c'è sintonia si può anche fare ma prima facciamo queste mappature e cerchiamo di incontrarle e riconoscerci mi fermo qui poi magari apriamo una discussione forse sono stato anche un po' critico sicuro ma è un modo per essere costruttivi mi danno la fatica di affaticarvi ancora allora adesso si potrebbe aprire uno spettro di vostro intervento in chiave rispetto a due motivi secondo me interessanti la prima fate parte di organizzazioni diverse sia del terzo settore che private io direi un primo spunto che mi sono segnato io ve lo lancio se volete fare una richiesta anzi farei subito io una richiesta per aprire un attimino spezzare un po' il ghiaccio insomma abbiamo ancora un po' di tempo ce lo possiamo giocare nel primo intervento Zuttiom ha sottolineato quelli che erano i modelli di sviluppo e una cosa mi ha colpito molto verso la fine che era questo è stato sempre l'educatore che ha avuto di buon cuore o di buona attenzione o bravo e si è reso conto che c'era qualcosa che si poteva cambiare rispetto a quel caso di quella persona dello spettro autistico anche rispetto al fatto di poter usare un budget potenzialmente spostabile da un contesto assistenziale di cura diretta a un'altra tipologia di contesto quindi com'è possibile in questo senso uno innestare nella forma professionale di un educatore di un pedagogista di uno psicologo di un qualsiasi persona che si occupa della cura della persona in questo senso l'attenzione a poter cambiare prospettiva in questo senso qua primo anche per dare spunto alle aziende agricole vuol dire io posso collaborare con i professionisti dell'educazione se ci sono questi spunti qua e il secondo è secondo lei come fa un'azienda agricola o un ente del terzo settore a far scattare questa inversione di tendenza al netto del fatto che ci sono delle ritrosie sistemiche insomma che non rendono tutto quanto fluido voi avete qualcosa da aggiungere potrebbe essere interessante come ma così prendo tempo per me non so rispondere un tema secondo me è le alleanze un po' le connessioni che si 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 configurano come quelle che possono avere risorse ma proprio anche visione di un cambiamento più alleanze faccio nel mio territorio è più facile che i cambiamenti perché i cambiamenti non sono mai dolci i cambiamenti vanno a urtare interessi vanno a urtare sensibilità immagino in psichiatria insomma quindi abbiamo notevoli esempi ecco a quello che a me manca è ad esempio la convergenza cioè queste alleanze che io faccio trasversale associazioni parrocchia il mondo del profit eccetera la convergenza cioè oggi io immagino vorrei che tutta questa gente fossero qua per capire perché è importante la convergenza la convergenza evita conflitti sì perché perché non possono nascere due prodotto sul stesso paese un esempio banale giusto per così ma anche nella cooperazione ne abbiamo noi di furbate del genere e poi sulla formazione perché se vent'anni trent'anni di disabilità sono nate delle quello che faceva semplicemente la persona del buon cuore ecco lì c'è stato un investimento formativo e quindi queste persone poi si sono un po' specializzate sono arrivati gli educatori eccetera adesso stanno arrivando anche altri tipi di formazioni bene ci sta ma tutte queste formazioni stanno andando da una parte opposta a questa convergenza perché si parla no come tu a me piace quando hai detto 50 volte abbiamo nominato comunità vuol dire che non esiste sono d'accordo con te l'ho detto anche prima che non c'è allora vogliamo ancora pensare all'inserimento della persona nella comunità ma chi lo fa quando a me viene chiesto come cedo diurno come struttura sempre il focus sulla persona il dettaglio e quant'altro e per cui come faccio mi concentro sulla persona ma come faccio poi inserirlo in un contesto cioè non ho abilità nel senso non ho delle persone formate che mi fanno fare anche questa cosa qua quando arrivano educatori gli os eccetera eccetera insomma è grave la situazione quindi discorso alleanze di convergenza e della formazione io penso che ce ne siano già abbastanza sì anche troppe per cui se riusciamo a fare una carrellata anche da spunti diversi che avete dato rispetto alle tematiche un attimino che ha posto Maurizio che fa parte di una cooperativa sociale AIB del territorio e da parte mia per il momento liberi di darvi l'ordine che preferite allora se ho capito bene la domanda è come rendere sistematica questa attenzione da parte degli educatori ma anche delle organizzazioni credo che ci siano diversi elementi ma qui come dire faccio delle ipotesi di lavoro anche se in parte confermate dell'esperienza la prima questione è certamente legata alla formazione io credo che si debba sviluppare di molto questa interdisciplinarità di cui parlava anche Paolo nella formazione che certi confini professionali debbano essere di molto sfumati questa spesso come dire anche gelosia dei propri spazi di competenza professionale secondo me rendono molto difficile la collaborazione all'interno delle organizzazioni dell'equipe eccetera ma soprattutto non aiutano una prospettiva che è quella come dire di impostare il proprio lavoro secondo logiche anche di coproduzione e coproduzione vuol dire sì come dire un coinvolgimento attivo del destinatario dell'intervento nella realizzazione dell'intervento ma anche degli altri professionisti degli altri colleghi e questo ripeto richiede inevitabilmente di sfumare i confini professionali anzi contaminazioni professionali questo è un aspetto che io ritengo in generale molto importante e che venga attraversato costantemente da una come dire postura attivante da parte degli operatori la proattività nella nella proprio intervento professionale secondo me il criterio che dovrebbe essere assunto sistematicamente parlavo di un sistema di welfare riparativo si trasmette in qualche modo nelle culture professionali riparative le quali rispondono a domanda esplicita la logica secondo me di funzionamento dei servizi e quindi dell'impostazione professionale dovrebbe essere quella invece proattiva in qualche misura che va a ricercare anche le condizioni che non si sono costituite come domanda esplicita ma sono di fatto situazioni che richiedono comunque dei sostegni analogamente a quell'esperienza credo sia stata proprio una postura professionale che cerca di considerare al di là del proprio confine perché poteva benissimo tra virgolette disinteressarsi di capire quali soluzioni erano possibili in termini creativi e anche attivanti altre risorse che si sono rese disponibili in questa prospettiva quindi questo credo parta molto dalla formazione io vengo da il mio antico mestiere era l'infermiere io molti anni fa ho fatto l'infermiere e ho visto come le formazioni come dire almeno in quel tempo ma vedo anche oggi faccio in alcune università dei corsi vedo che c'è ancora molta molta come dire rigidità nell'interpretazione dei confini comprensionali con molti contenuti che non aiutano però poi ripeto a questa capacità di andare oltre i propri confini per in fondo cercare comunque quella che può essere una soluzione utile per le persone questo in generale questo vale anche per le organizzazioni almeno questa è la mia impressione quelle contaminazioni di cui si parlava quelle anche capacità di creare delle connessioni positive tra le organizzazioni e in qualche modo il presupposto per poter ricercare mi viene da dire quasi nell'ambito di una filiera di opportunità possibili appunto quelle che potrebbero rispondere adeguatamente o nel migliore dei modi ai bisogni qui vi vedo un altro aspetto che secondo me è importante io lo vedo sempre di più come un elemento centrale per per il funzionamento delle reti dei sistemi io poi mi occupo anche della governance cioè del coordinamento dell'indirizzo della guida delle capacità di prese decisioni condivise tra diversi attori e soprattutto nei sistemi di welfare io insisto molto sulla necessità di rappresentare degli orizzonti di senso condivisi oggi almeno magari goffamente ma il tentativo era questo di dire c'è una prospettiva di senso condivisa ed è stata ben arricchita sicuramente meglio dai colleghi che deve essere di guida per le organizzazioni se manca questa prospettiva è vero che poi ognuno ha un proprio interesse è vero che ognuno poi rischia di ricadere nella propria come dire individualismo organizzativo ma io considero che queste almeno nell'esperienza che ho avuto questa visione che si riesce a rappresentare sia una forza trainante il cambiamento sia quasi come dire quello che spinge tutti gli attori appunto in una direzione convergente rispetto al cambiamento e in questo senso credo che appunto questo orizzonte di senso debba comprendere anche questa capacità di essere proattivi rispetto ai bisogni però attivi rispetto ai problemi non creativi anche rispetto ai problemi questo io credo che favorisca poi la possibilità di invertire quella tendenza in cui spesso le persone e le organizzazioni sono portate a dire ma questo non è il mio compito o questo non è il mio sì grazie grazie Maurizio mi permette anche a me di specificare una cosa che non ho detto prima anche sulla scia di quello che stava dicendo adesso Ranieri formazione e allargherei anche educazione civica la cittadinanza se noi vogliamo recuperare il singolo cittadino dobbiamo in qualche modo dobbiamo andare verso anche il cittadino il cittadino singolo in qualche modo e informarlo investirlo e far passare l'idea che quello che ci muove non è sempre l'interesse prima Ranieri da quel libro la cosa che hai utilizzato la funzionalità è l'essere noi non ci muoviamo sempre per funzionalità per interesse per funzionalità ma per l'esistenza tra l'altro che è molto interessante no questo perché c'è una visto il fatto di semplicitazioni interessanti c'è una corrente di nuovo pensiero che mette anche che fa delle riflessioni critiche sul concetto di stakeholder che lo utilizziamo ormai tutto stake è interesse holder è detentore di un interesse ma siamo sicuri che ci muoviamo sempre per gli interessi non è vero c'è alcune persone che si danno praticamente senza avere un interesse di ritorno e allora quello non lo mette dentro la categoria di uno stakeholder ok e poi alcuni si muovono rispetto a un tema perché c'è un diritto allora dovrebbe essere chiamato right holder io sono detentore di un diritto e non di un interesse l'interesse è molto è quel modello che volevamo abbandonare il paradigma precedente se si muoviamo le parole sono pazzesche se noi però utilizziamo le stesse parole del sistema dominante riusciamo molto poco a costruirne un altro e a praticarne un altro e siamo molto invischiati in parole dovremmo rifletterci un po' di più sulle parole anche quello di stakeholder non è detto che siamo tutti sei stakeholder io magari non ho interesse ma ho una mi piace essere parte della comunità e voglio sentirmi parte della comunità non posso definire un interesse alla stregua economicista in cui è definito di portarmi a casa qualcosa perché io voglio dare per esempio questo giusto mi sembrava interessante ed è una particolarità e partire dai cittadini significa questo cioè trovare praticamente qualcosa che ci lega tutti insieme in una comunità perché se uno ci porta vabbè io sono un'azienda devo portarmi a casa il profitto l'altro deve portarsi a casa il proprio vantaggio questa roba qua si fa poca alleanza o convergenza la convergenza deve essere costruita sull'essere secondo me più che sulla funzionalità questo mi sembrava interessante ci sono altre interventi no allora scusate io ho ricavato un po' di riflessioni quindi era un po' una provocazione un po' capire cosa ne pensate intanto più che altro guardando magari gli sguardi di qualcuno mi veniva da dire quando si vengono in questi incontri non c'è un libretto dell'istruzione quindi non diamo una ricetta predefinita di come si fa l'agricoltura sociale discutevamo che l'altro giorno con il professor Antonini abbiamo gli ingredienti ognuno poi fa la sua ricetta e proprio in questo mi veniva da dare la riflessione in termini di processo perché la retorica della rete rete come obiettivo perché ovviamente la pubblica amministrazione si è data nel progetto l'obiettivo di fare rete rete come strumento ma la difficoltà di pensarsi come processo perché nel processo passano i mondi vitali che dicevamo prima dovevo un po' capire cosa ne pensavate di questo perché è un messaggio che è veramente difficoltoso a far passare che ognuno è attore e protagonista di questo processo e che è il momento del processo che si vive che si genera non l'arrivo e un'altra riflessione sempre perché magari si pensa all'agricoltura sociale tornando a questo tema è un discorso che è già venuto fuori più volte nei scorsi incontri nel pensare all'agricoltura per chi coltiva coltiva il terreno cosa coltivo cosa fai oggi Daniele non c'entra nulla con l'agricoltura sociale però è venuto quando gli ho detto vieni per uno spunto di riflessione qui si parlava un po' di riprendendo anche le lezioni di Grizzo ruralità sociale più che l'agricoltura sociale altrimenti chi non è agricoltore non si pensa dentro questo sistema buongiorno come ha detto Elisa non faccio parte dell'agricoltura sociale però volevo un po' fare una considerazione trasversale tra i vari relatori una considerazione che è sorta da una domanda che ha fatto il professor Dution che aveva chiesto come si può riorientare il sistema una cosa che è già stata detta ovviamente con la formazione e l'informazione aggiungerei quasi obbligatoria proprio per creare contesti nuovi e come riorientare il sistema secondo me da una parte bisogna cambiare un paradigma esclusivamente pietistico e qua mi rifaccio un po' a quello che diceva il professore Antonini che diceva che comunque ci sono delle imprese profite impegnate nel sociale ma sono nascoste non lo fanno vedere ed anche questo è un paradigma pietistico dove non devo far vedere che ho fatto qualcosa ma perché non farlo vedere quando ma non in maniera pubblicitaria nel senso devo fare lo slogan con la canzoncina sotto ma proprio far vedere come si può fare e perché lo faccio soprattutto proprio per un impegno sociale che c'è c'è tante volte e dall'altra parte le associazioni non profit si vergognano di dire stiamo facendo questa cosa qui per procurarci dei fondi che ci serve per andare avanti oppure per procurare dei fondi per non lasciare in produttivi i fondi che ho ricevuto da un ente regionale piuttosto che nazionale quindi ci dovrebbe essere una certa pubblicità una certa formazione informazione e proprio pubblicità nel senso intesa visto che la pubblicità si dice che è l'anima del commercio da una parte non vedo perché la pubblicità non potrebbe essere anche l'anima della cultura in un certo senso è proprio un paradigma culturale che va cambiato dico due cose anzi una cioè alleanze convergenze e formazione è stato detto torno sul tema un pochino della proposta cioè di fare un passo avanti anche in termini associativi perché quello che di cui c'è anche gran bisogno prendendo lo spunto della dimensione di senso sono le proposte di senso proposte di senso non partono per riaffermare prerogativi schemi rendite di posizione piccoli o grandi poteri consolidati dovrebbero nascere da un miglioramento per le persone per la comunità che forse non esiste ma è molto nominata una comunità possibile e quindi il tema della formazione è vero che le professioni ancora sono spesso ancorate a delle logiche identitarie di separazione e autoaffermazione più che di integrazione per quello livello di sistema facciamo fatica a pensarlo soprattutto a pensarlo cambiato da qui a breve a cominciare o stare nel cambiamento anche con quello che potremmo forse così definire anche un welfare di testimonianza che non vuol dire che bisogna rintanarsi a fare solo una piccola cosa ma provare a fare delle cose che davvero mettono insieme mondi diversi faccio una battuta quando anni fa gestivamo la riserva naturale di Isola Lacona la gestione era naturalistica e quindi gli esperti erano naturalisti erano gente che contava le occhi che volavano in cielo e ti diceva quante ne stavano passando ma a loro il tema della salute mentale di creare opportunità di inserimento lavorativo per ragazzi del CSM che erano ai margini non interessava in realtà è diventato un interesse è diventato una parte di un naturalismo esteso dove al fenomeno del passaggio delle ocche dal collo rosso c'era anche la questione di Marco che finalmente era venuto a lavorare o di Luigi che era diventato la persona che accompagnava con i cavalli le scuole o di Lucia che apriva il museo quindi queste contaminazioni sono dimensioni sono scelte che devono essere anche coerenti e fortemente reiterate ma sono scelte proprio di di abito di comportamento apro poi magari all'inizio anche le esperienze fatte non vengono cento persone o ne vengono ottanta di cui venti litigano però tieni aperto quel cantiere quel laboratorio usiamo i termini che vogliamo anche se le parole sono importanti che non ha non lo fai per un interesse di qualcuno ma per qualche cosa che ha un senso un po' per tutti allora ci sarà come state facendo voi si parla di economia si parla di agricoltura si parla di marketing si parla di sociale si parla di sanitario si parla di ambiente di energia non c'è un solo modo di metterli insieme il modo è determinato da chi si mette insieme a farlo sicuramente alleanze convergenze e formazione gradualmente danno vita a un linguaggio un pezzo di cultura o qualche cosa che ci assomiglia che non c'è o c'è poco noi non sappiamo se sia la cosa giusta pensiamo di sì se no non saremmo venuti qua e ciascuno lo fa come può per me è stato molto trasformativo e anche mi ha insegnato molto il luogo dove lavoro una casa di riposo non c'entra niente con l'agricoltura sociale nel momento in cui mi hanno spiegato che avevamo posti letto e centro di urno ma l'esperienza della domiciliarità fatta insieme ho detto bene andiamo a casa no forse non hai capito noi abbiamo posti letto e centro di urno sì ma dov'è la fragilità dov'è che le famiglie sono in difficoltà abbiamo o non abbiamo una mission sociale sì lo dice allo statuto andiamo a casa questa cosa ha convertito le culture professionali degli os dell'infermiere del fisioterapista perché si sono messi in gioco in un'altra dimensione che non era più quella tra virgolette non frentenete comoda o comunque consolidata conto se sei ospite conto se hai l'ospite sono due profili diversi anche questo le culture anche nella rotazione cioè non è che le persone possono fare 30 anni la stessa cosa negli stessi uffici perché non hai visto al mondo che è cambiato 150 mila volte accettare che alleanze convergenza e formazione ci mettano profondamente in discussione nei ruoli anche nell'età e nella capacità di vedere l'altro e di responsabilizzarlo di accettare che ci sia qualcuno che può farlo finalmente meglio di te credo che siano aspetti importanti però ripeto sottolineo l'unica cosa che mi sento di proporre fate un passaggio provate mettete in piedi un'associazione sarà l'ennesima fallirà che sia di economia solidale circolare sociale stellare non lo sappiamo un luogo in cui ci si parla tra pari e ci si prova a governare accompagnare un cammino di cambiamento che tenga insieme le diverse discipline buongiorno a tutti io rappresento l'istituto agrario il tagliamento e sono molto felice perché mi sento presa in causa come formazione e anche mi piace molto la parola convergenza perché noi già abbiamo tanti ragazzi con disabilità o con fragilità il prossimo anno su circa 800 studenti che abbiamo e nelle nuove prime entreranno 20 ragazzi con disabilità ospitiamo una WET e stiamo per intraprendere un percorso di formazione proprio su agricoltura sociale con i ragazzi che frequentano l'agrario quindi non con ragazzi che frequentano indirizzi come si chiamano socio-sanitari quindi ragazzi che di per sé farebbero gli agricoltori e che hanno manifestato una sensibilità verso questo settore e mi piace anche l'idea c'è anche qui una persona che mi aiuterà molto il prossimo anno che adesso si sta nascondendo perché l'idea era quella di fare una cooperativa no? cioè di poter far nascere dentro la scuola quello che dicevate voi una cooperativa tra pari quindi non noi speriamo di riuscire a sfornare ragazzi che possono andare a lavorare nel territorio presso le vostre aziende private o pubbliche ma ci piacerebbe anche che fossero dei ragazzi che partono loro e ragazzi con fragilità e ragazzi chiamiamoli normali ma che hanno le loro fragilità che insieme possano avviare qualcosa e quindi fare quel saltino che dalla scuola al mondo del lavoro quindi io volevo solo ringraziarvi per questo intervento che è stato confortante e illuminante chiedervi però di venire a scuola per fare un po' di stimolo ai miei colleghi perché ai miei colleghi docenti perché anche il primo intervento che riguardava molto dove stiamo andando quali sono i giovani d'oggi era importante prima dobbiamo svegliare un attimo ai professori che si stanno avviando verso quella parte di senescenza perché siano un po' più attivi e aiutino i ragazzi a uscire da questa senescenza anticipata che alcuni di loro hanno ecco quindi grazie e grazie a tutti quelli che vorranno collaborare con l'istituto agrario in futuro e non svelo altro perché sono già in corso collaborazioni che spero vadano a buon fine grazie a tutti io lavoro nelle fattorie sociali e riscontro sempre una contraddizione incredibile rispetto al ruolo che dobbiamo dare a questi giovani al ruolo di adulti di persone che sanno fare delle cose e li affianchiamo a degli educatori che non sanno fare che non hanno un mestiere e quindi e spesso hanno anche l'orgoglio di non mettersi a fianco ai tecnici ai contadini ai panettieri che sono quelli che hanno il mestiere in mano che sono quelli che sono in grado di dare un ruolo a queste persone non sono gli educatori che danno un ruolo il ruolo lo dà il cliente che viene a comprare il pane buono e questo cambio questa questa perdita di ruolo dell'educatore necessaria indispensabile questo sentirsi a fianco a lavorare assieme io non lavoro per il ragazzo io lavoro con ma non so fare e quindi chiedo al contadino quando si va in campo con i ragazzi bisogna mettersi insieme a lavorare e chiudere le parole questo è penso il nucleo molto importante proprio l'azione il fare e il problema è che questi educatori non sanno leggere le azioni perché nelle azioni dei contadini c'è tutto nelle azioni di un panettiere c'è tutto ed è quello che il ruolo che attribuisce un ruolo che riconosce un ruolo non è quando c'è un educatore che fa l'educatore toglie il senso perché c'è un giovane che è lì per acquistarsi un ruolo di lavoratore e tu invece ti metti a fianco per educarlo e quindi riportarlo a un ruolo dell'infanzia sostanzialmente quindi questa cosa dei ruoli è fondamentale questa cosa di sapere chi sei e di cosa stai facendo in una fattoria sociale è fondamentale perché altrimenti è un guaio salve grazie buongiorno sono Stefano Piccino anch'io lavoro come te anzi ho lavorato come te in varie fattorie sociali in giro per il Veneto e mi hai anticipato quello che volevo dire fondamentalmente io ho una formazione veramente diversificata nel senso che sono operatore sociosanitario faccio il progettista faccio l'OS faccio il panettiere ho fatto le scuole serali per farlo e ho trovato che nella relazione soprattutto con la persona che ha bisogno meno effettivamente si fa vedere il ruolo dell'educatore o dell'operatore sociosanitario meglio in qualche modo risultano i progetti in termini di risultato della persona voglio fare un esempio molto spesso io ho dovuto togliermi di fronte alla figura del contadino dell'agricoltore che in qualche modo insegnava alla persona ho dovuto non tanto mettermi a fianco della persona quanto proprio tirarmi indietro perché la persona aveva scelto il contadino come punto di riferimento perché è più il fare che l'insegnare cioè l'insegnare facendo che riesci in un qualche modo ad avere un certo appeal per la persona con disabilità perché se partiamo dal presupposto che una persona con disabilità ha dei deficit cognitivi insegnare attraverso come si può dire un un aspetto teorico forse è proprio sbagliato il principio ok perché partiamo da un presupposto che forse non siamo simmetrici io e quest'altra persona con disabilità nelle competenze cognitive che abbiamo e quindi io mi devo abbassare e fare la cosa che ho trovato più difficile nell'esperienza di agricoltura sociale che ho vissuto è proprio abbassare come si può dire l'orgoglio dell'ambito sociale quindi dell'operatore sociosanitario dell'educatore del direttore del centro cose del genere a come si può dire farsi farsi da parte ok intervenire in in un'attività di back office ok di strutturazione di programmazione con l'agricoltore di come comportarsi di quale input dare alla persona non durante l'attività non di fronte alla persona ma in un secondo momento la persona non deve vedere il mio intervento all'interno di un inserimento occupazionale o di un inserimento socio-occupazionale chiamiamola come vogliamo insomma non è importante qual è il tipo di progetto l'importante è che la figura dell'educatore e dell'operatore sociosanitario possa in un qualche modo venire meno ok durante l'aspetto lavorativo dopo in un aspetto invece di programmazione rispetto al progetto educativo individuale rispetto a un progetto di alternanza scuola-lavoro cioè qualsiasi cosa è logico che la figura dell'educatore è la figura centrale e quindi l'agricoltore lo starà tra virgolette ad ascoltare in un qualche modo e ad apprenderà altri tipi di competenze fondamentalmente però ecco se posso fare una considerazione una delle cose più difficili che ho trovato nel come si può dire nell'aspetto proprio operativo e riuscire a trovare dei linguaggi che venissero condivisi da queste diverse realtà da un punto di vista professionale ok ecco e dopo anzi volevo aggiungere un'altra cosa ho avuto la fortuna per due tre anni di collaborare con Angelo Righetti non so se qualcuno lo conosce insomma ecco un personaggio numero uno dal mio punto di vista che è stato un po' l'inventore del budget di salute ancora quando non se ne discuteva neanche minimamente all'interno di consigli come si può dire regionali o cose del genere ho appreso con piacere che la regione Friuli-Venezia-Giulia insomma in un qualche modo sta portando avanti questo tipo di approccio volevo chiedere quanto secondo voi l'aspetto manageriale di quelli che possono essere considerati portatori di interesse anche se non è i portatori di interessati quindi l'assistente sociale il dirigente della disabilità adulta di un servizio sociale l'educatore il direttore di un centro possano riuscire a condividere un tipo di approccio del genere che secondo me invece è deficitario nell'ambito sociale cioè una delle cose che io ho notato di più nell'ambito sociale provenendo da un altro ambito di auto economia di base è l'aspetto che quando si incomincia a parlare di target di obiettivi di indicatori di verifica di programmazione di pianificazione l'ambito sociale è un po' tende un attimo a dire no noi non siamo questo invece comunque una cooperativa per quanto sia una cooperativa sociale è sempre un'azienda grazie beh avrei tante cose a dire perché non ci avete detto cose ci avete trasmesso una carica e ripeto anche degli slanci che ripeto mi concentrerei su un aspetto che è il tema dell'intergenerazionalità mi spiego mi sono visto attorno qui e con diversi ci sono non due tre anni di esperienze si va indietro di 30 35 anni allora io mi chiedo rispetto all'importanza allo spessore di quello che ci siamo comunicati quello che abbiamo condiviso questo pomeriggio come riuscire a trasmettere nei giovani se avete sentito di riflesso qualche accenno che un po' per chi ha 60 e più anni o 30 40 anni di esperienza in questi mondi citare la difficoltà di trasmettere quello che abbiamo vissuto noi le fatiche agli educatori e ai giovani era strisciante è una cosa che abbiamo tutti che percepiamo però torniamo a cadere su quello che ci siamo detti ci dicevamo 30-40 anni fa pensando alla generazione che ci ha preceduto ed è ora di finirla perché mi pare che siamo abbastanza strutturati per evitare cadere in quell'errore quindi cosa voglio dire quello che dovremmo far tesoro da incontri come questi è dire come riusciamo a trasmettere ma non a livello di dare il peso e di dire noi abbiamo fatto fatica per 30 anni di rete di coordinamenti di connessioni non abbiamo parlato da ieri e da tantissimi anni allora come riusciamo a trasmettere il testimone ma con piena libertà non il peso del testimone che pesa tanta fatica ai giovani creando delle occasioni non solo di confronto ma anche passare con leggerezza la fatica che abbiamo fatto noi perché quando prima più volte si è parlato di rendere leggeri le come dire le professioni i limiti delle professioni di non irrigidire cioè qua tanti potrebbero dire comunicare condividere esperienza di rigidità no allora perché non riuscire o meglio perché dovremmo impegnarci tutti a evidenziare in una delle slide avevi evidenziato anche tu Ranieri cioè gli aspetti positivi gli aspetti propositivi ecco questo perché altrimenti rischiamo di di appesantire anche in una situazione che ha come l'agricoltura sociale 10-15 anni neanche una decina d'anni allora come riuscire a trasmettere ai giovani cooperatori che vogliono fare veramente agricoltura sociale e ai giovani agricoltori quindi i nuovi i giovani che operano in agricoltura sociale e che non hanno l'appesantimento no di 10-15-20 anni e che dico ah facevamo così ecco questo secondo me è uno degli stimoli maggiori che almeno io porto a casa perché dico questo è una dobbiamo fare una riflessione perché altrimenti scarichiamo un testimone da tonnellate ai giovani e questo non aiuta niente questo così vado io tante cose molto belle interessanti tra l'altro l'esperienza che ho sentito provo a dire due cose però mi avete sollecitato su alcune questioni parto dall'ultimo così come passare il testimone avete parlato di generatività i passi della generatività sono desiderare concepire mettere al mondo prendersi cura e lasciare andare il più difficile è quest'ultimo departorire lo so perché come te sai bene che 35 anni fa sono stato cooperatore sociale oltre a tutte le cose quindi io so che non è facile perché è vero la prospettiva che dici tu di come diamo un testimone senza schiacciare è molto vero e certo ci vuole equilibrio però l'esperienza che vedo io è che spesso fanno fatica i vecchi a lasciare andare cioè che spesso questa come dire capacità dopo essersi presi cura di responsabilizzare con equilibrio e con buon senso le persone nuove io ne ho viste tante e ne vedo anche in queste settimane alcuni esempi c'è proprio nel mondo come dire dei vecchi cooperatori e la riflessione che evochi è assolutamente necessaria credo però che che certe condizioni che sono state quelle che abbiamo vissuto posso parlare in prima persona ripeto 30 e passa anni fa nel avviare tutta una serie di pratiche e qui magari mi collego con l'intervento di Stefano mi pare perché noi Angelo Righetti l'abbiamo conosciuto molto bene nei primi anni 90 ci abbiamo lavorato parecchio tempo proprio sull'esperienza di Deistituto di Analizzazione dove è nato il budget di salute ha capito noi noi l'abbiamo conosciuto molto a fondo sì sì appunto è più o meno è funzionato così noi invece siamo rimasti a raccogliere qualche coccio però al di là di questo non c'è dubbio un grande innovatore un grande visionario gli va riconosciuto una delle cose importanti che secondo me ci ha trasmesso tra le altre così mi ricollego a quello che dicevate è proprio questa idea lui la chiamava vocational therapist ma secondo me se l'ha inventato perché parlava di questa figura di un professionista psicologo infermiere os educatore eccetera che però sapeva anche un mestiere o lo sapeva o lo imparava quindi nel caso nostro agricoltore locandiere allevatore di trote e tante altre attività che sono state avviate con questa intuizione importante di mettere in connessione diretta il momento assistenziale riabilitativo col momento imprenditoriale e questo però aveva anche una funzione di start up nelle nuove organizzazioni nuove imprese sociali perché riuscire anche a sostenere una parte dei costi attraverso gli educatori o infermieri o che però non stavano dentro il loro specifico professionale dicendo questo è un lavoro che non mi compete si sporcavano le mani in quell'attività che veniva definita sempre da Angelo la mediazione d'orgetto per cui la relazione veniva mediata da un oggetto concreto che era la piantina di pomodoro da piantare eccetera eccetera e questo stabiliva una forma di relazione che nell'ambito terapeutico riabilitativo soprattutto della salute mentale come dire avvantaggiava di molto e favoriva di molto un processo di recovery di recupero di queste persone per cui questo tipo di prospettiva io sono d'accordo ma fino a un certo punto secondo me deve scomparire l'educatore ma in quanto educatore voglio dire deve rimanere fisicamente lì e lavorare insieme a queste altre persone se c'è un'azienda agricola lavorare nell'azienda agricola mi colpiva che apprezzava come dire i disabili che lavoravano le persone ma non ecco questo è un punto chiave quando parlavo prima di capacità di attraversamento dei propri confini professionali mi riferisco anche a questo e mi riferisco magari al fatto che come Ossi possa anche somministrare la terapia a quella persona che non arrivi l'infermiere con l'ordine a dire che no non è possibile che un Oss dia o che un'altra figura la terapia che uno prende da 50 anni sempre quella eccetera per fare un esempio concreto di cosa vuol dire superare anche i confini professionali forse invece di parlare di formazione sarebbe meglio parlare di cultura ma c'è da parlare di formazione c'è da parlare di culture professionali c'è da parlare anche di regolazione dei rapporti lavorativi professionali di come si possa garantire che nessuno si becchi la denuncia se comunque e questo ha a che fare con tutta una serie di altri aspetti non è solo un problema culturale è anche un problema amministrativo regolamentare eccetera per quello dico che chiudo a parte i tratti solitamente depressivi di Giulio che dice facciamo il welfare di testimonianza e io dico facciamo il welfare di sperimentazione sì l'abbiamo fatto da 30 anni la mia esperienza è quella di aver sperimentato prima come cooperatore sociale volontario tutta una serie di difficoltà e di essermi interrogato su quali condizioni avrebbero reso meno difficile ai nuovi gestire determinati processi da qui se volete almeno su piano personale l'interesse e il coinvolgimento su altri livelli che consentissero appunto di intervenire di incidere ad altri livelli che riescano a creare delle condizioni favorenti certi processi di cambiamento e di sviluppo io mi sono interessato appunto sempre di altre condizioni con questo scopo di capire se ad esempio modificare certe regole ad esempio di affidamento dei servizi alla cooperazione sociale ad esempio di finanziamento ad esempio certe regole di accreditamento dei servizi oppure creare delle norme che aggancino e rendono possibile erano condizioni di sistema che rendono la testimonianza qualcosa che può come dire fecondare un cambiamento complessivo perché se no la testimonianza è destinata a morire questo io sono convinto cioè se non si riesce a generare un circuito virtuoso tra le sperimentazioni che indicano una possibilità di cambiamento ma poi anche un sistema di come dire di cambiamento delle politiche che assumano negli atti pianificatori regolamentari queste buone indicazioni che arrivano dall'esperimentazione e le rendano sistema o meglio creino le condizioni perché sia possibile ma non è detto che questo accada io sono dell'idea che una parte di queste condizioni adesso si è realizzata lo solo accennate alcune cose ma ce ne sono molte altre potremmo parlare della coprogettazione di tanti altri elementi che ce li sognavamo 30 anni fa ma proprio ma anche 20 anni fa allora queste condizioni però devono incrociare una capacità anche di cambiamento non solo degli assetti ma anche di chi poi questa realtà le gestisce e qui c'è un problema culturale anche della cooperazione sociale anche come dire del mondo del terzo settore in generale e della pubblica amministrazione io non sono così io sono convinto che per certi ambiti della pubblica amministrazione per esempio secondo me gli ambiti dei servizi sociali in molti contesti sono più avanti di quelli dei sistemi sanitari e anche qualche volta più avanti di una certa parte del terzo settore non dappertutto è un po' a macchia di leopardo però c'è questa cultura e ripeto oggi ci sono delle condizioni delle occasioni che però sta un po' a tutti noi ai diversi livelli cercare di cogliere aggiungo due cose sulle cose di Stefano che mi hanno anche stimolato perché mi ricordavate poi le persone che andavo a intervistare nelle aziende agricole le vostre espressioni però sono molto d'accordo con quello che diceva Ranieri nel senso deve sparire educatore come figura come ruolo ma non come persona e voi avete parlato di ruolo e non di status sì sì ma anche tu lo avevi detto sì sì ma infatti anche tu dicevi la stessa cosa no però non è facile farlo sono d'accordo con te bisognerebbe insegnare gli educatori a fare questo cioè devono scomparire in quel momento lì anche loro diventano praticamente corsisti dell'agricoltore che insegna non solamente la persona disabile ma anche l'educatore a fare delle cose quindi metterci in quel ruolo lì mentre lui può osservare alcune dinamiche alcune cose ma utilizzare però la formazione perché esiste la formazione in situazione sono due formazioni praticamente che si fanno proprio facendo le cose e anche ci sono ormai c'è una letteratura pazzesca sul fatto delle conoscenze tacite che non serve spiegarle a voce io ho un esempio che mi porto sempre dietro quando praticamente nella fanegnameria in Trentino anni fa tastando le tavole loro riuscivano a dire due centimetri due centimetri e mezzo tre centimetri spiega la tua voce praticamente come si fa a misurare ed era perfetto cosa che poi è sparita quando gli hanno chiesto di mettere i guanti per la sicurezza tra l'altro questo è molto interessante però sono conoscenze tantissime conoscenze tacite che non si possono raccontare se non fare e uno deve farle uguali tentare di farle all'inizio sbaglia quindi utilizziamo la parola formazione esistono tanti tipi di formazione non guardiamo solamente la formazione d'aula o praticamente verbale assolutamente sull'intergenerazionalità se vi riscoltate il video della Venerus era soddisfattissima dei 209 aziende agricole che hanno finanziato con il PSR sarebbe interessante andare a vedere chi sono e cosa pensano praticamente come loro fanno l'agricoltura in Friuli Venezia Giulia ed era contenta perché diceva che un 200 non è un numero basso in Friuli Venezia Giulia quindi qualcosa si muove bisogna capire come si sta facendo nuova agricoltura inteso come le nuove generazioni fanno per il resto mi adeguo a quello che è stato già detto fino adesso anche io ho trovato molto interessante dicevo anche io ho trovato molto interessante gli stimoli di Stefano anche rispetto alla capacità di rileggere i ruoli all'interno delle organizzazioni e quindi di mettersi da parte e creare delle condizioni perché vengano emergano chi? le persone che fanno la qualità nell'assistenza le persone che che danno la qualità alla relazione non è semplice però diventa e anche a proposito di educazione abbiamo parlato tanto di educatori educatore la figura educatore eccetera ma tutti andiamo educati cioè l'educazione non è che la prendi solo no? anche nell'organizzazione essere educati è il cambiamento anche quello che stiamo dicendo adesso è già ha una sua dimensione educativa cioè nel fatto di porsi delle domande e anche rivedersi nelle proprie prerogative nei propri ruoli poi l'accenno che faceva facevi a Angelo Righetti l'angelo è una persona di quelle che ti cambia la vita poi dipende quanto vicino gli stai nel senso ma nel senso che a virtù profetiche geniali lui ha detto delle cose trent'anni fa che aveva visto molto lungo io poi non dobbiamo fare polemica quando dico lo effort di testimonianza dipende anche uno dove vive un periodo della vita e quello che un pochino ha visto essendo anche all'interno di un contesto un pochino più limitato io vedo che certe cose quelle che riconosco sono più a livello episodico ma estremamente preziosi da riprodurre da contaminare da rigenerare perché rappresentino quella dosi diciamo quella dimensione anche di sperimentazione che poi il sistema deve essere in grado di cogliere e riprodurre sono assolutamente d'accordo tra l'altro Ranieri penso che su questo lo possa dire perché lui è uno dei padri della parte dei suoi figli ma anche degli infermieri di comunità che adesso è nel disegno della sanità territoriale e quanti anni ci sono voluti una trentina venti ok qui ecco venticinque quindi il budget di salute nasce a fine anni 90 oggi è un disegno di legge una prospettiva che già alcune regioni quindi i cambiamenti chiedono tempo i sistemi cambiano nel tempo ecco che l'equilibrio tra il welfare e la testimonianza è quello che dimostra possibile e mette in discussione delle cose e ne fa vedere delle nuove serve per mantenere in vita quella linea del tempo che permette poi di maturare anche i cambiamenti intanto grazie per gli spunti sono stati tantissimi almeno per quanto mi riguarda ma credo anche per quanto riguarda insomma la parte dei servizi sociali e di quelle che sono le responsabilità delle pubbliche amministrazioni sì tanto che come dire sono molto contenta delle cose che voi avete dette nel senso che proprio ti danno la voglia di fare di partire dall'altra parte c'è molta preoccupazione perché c'è una responsabilità grossa in questo senso che ha la pubblica amministrazione rispetto a quella governance di cui voi parlavate e che sì e che spesso anche la pubblica amministrazione fa fatica a vedere come nuove la visione dare senso voglio dire ecco all'orizzonte per cui mi chiedo ecco no questa questa parte che è importante che è fondamentale come può essere giocata no e come giocata nel senso come effettivamente può essere sostenuta ecco anche in una funzione di sostenibilità anche di tutti questi percorsi perché io dico sono fortunata che sono in un territorio ricco come questo e anche di alleanze che ci sono o comunque di come dire di rapporti di relazioni che si sono costruite però sono tanti anni e si voglio dire è un territorio ricco con tante potenzialità eppure non riusciamo a fare dei salti no? ora mi chiedo sia di responsabilità nostra no? come pubblica amministrazione rispetto alla governance e della difficoltà ecco di di riuscire a costruire o comunque a rendere questo territorio che ha le possibilità come dire che proprio dal territorio possono nascere quei servizi che ritengo siano importanti che nascano nel territorio non solo dalle istituzioni ecco no? perché quando Ranieri dice sì quel cazzo stava meglio in quel contesto io ci credo no? perché le istituzioni possono sono lontane si bisogna ritornare là per poi recuperare quella parte no? per rigenerare quelle relazioni o il far generativo è proprio no? a partire da quello che siamo dall'essenza delle cose e anche sì dal senso che diamo per cui sì è fondamentale però la preoccupazione che rimane è proprio questa responsabilità che dico sono capaci le attuali le attuali non è che le responsabilità scusa se ti interrompo non è che le responsabilità non ci siano nel rimanere a parte che voi non siete fermi ma dico in generale non è che star fermi non hai le responsabilità un suggerimento soprattutto anche all'interno pubblico amministrazione cioè provare a forzare anche il superamento di certi confini e certi settori cioè non ha senso che il sociale faccia solo sociale che non si parli all'interno di un comune mi viene facile piuttosto che non si parli con i colleghi dell'ambiente che non si parla con quelli dell'urbanistica con quelli della casa cioè sta roba qua punto fine cioè bisogna smontarla se no è inutile che parliamo di politiche sociali che sono casa lavoro relazioni sociali no budget di salute habitat formazione lavoro tutto qua cioè se manteniamo noi nelle amministrazioni pubbliche adesso io non ci sono nel pubblico ma dico ci sono stato e ho provato a smontare con tutte le difficoltà no ma non ha senso che il sociale lo faccia nel sociale poi la casa aspetta smonti devi provare alcune forzature cioè il cambiamento non è dolce non credo al cambiamento dolce a un certo punto certi scalini bisogna farli cioè parlavo con il mio sindaco ero Sandona di Piave quindi riscontrabili gli dicevo Andrea noi siamo un'organizzazione tribale che si deve integrare con un'organizzazione paramilitare come l'azienda sanitaria non è facile chiaro che io provocavo ma sul fatto che fossimo un'organizzazione tribale era abbastanza vero cioè i settori ancora quello del primo e quello del secondo oggi con le conoscenze le contaminazioni di cui abbiamo bisogno smontiamo i settori e obblighiamo anche i professionisti a stare su temi che sono trasversali perché non puoi occuparti di casa se non ti occupi anche del lavoro della formazione della famiglia dei giovani e quindi anche in uno scenario di invecchiamento e quindi anche della mobilità dei servizi ok formare e mettere nelle organizzazioni persone che hanno una prospettiva di carriera di 30 e passa anni a fare solo quel settore lì auguri cioè ci sono delle modalità cioè delle cose che bisogna cominciare a fare smontare certe organizzazioni dico per reagire non so che siete più avanti di tanti altri però dico in generale assumere che alcune modifiche cioè l'area welfare di comunità nasce su un'intuizione legata al welfare al tema della comunità la comunità è il centro attorno al quale ruotavano il sociale gli anziani i disabili le tecnologie la famiglia i giovani quanta gente ci ha lavorato in questi anni ma il tema era la comunità non era un servizio verticale era una dimensione trasversale comunitaria sarebbe bello che in un comune o anche in un'azienda sanitaria ci fosse un settore comunità anche le parole pesano anche le parole pesano nell'esperienza ciascuno di noi prova a fare delle cose non voglio fare il depressivo ma ciascuno prova a fare le cose dove riesce dove può ho avuto la possibilità il comune mi ha detto come cambiamo il nome dobbiamo fare un'organizzazione chiamiamo l'opportunità sociale e sviluppo umano ma mica facciamo sviluppo umano ma come no facciamo sociale scuola e sport di che cosa ci occupiamo di sviluppo umano poi si rispondeva sempre ai servizi sociali e al telefono ma l'idea anche il linguaggio anche le pubbliche amministrazioni cambiano anche nel linguaggio nella dimensione di senso anche quello ma bisogna smontare per rimontare pensare di fare nuovo con gli stessi schemi di quello che c'è stato fino adesso non lo fai allora prenderei la palla al balzo di capire se qualcun altro vuole fare un intervento se no ci avviamo a chiudere i ringraziamenti dirvi due ultime cose veloci cioè 30 secondi ci metto ecco sarà abbastanza chiaro sì allora intanto grazie per la pazienza ringrazio i relatori di persona vi ringrazio anche come referente del centro studi di agricoltura sociale che è uscito in seguito al tagliamento si ringrazia Soform nella figura di Fabio Dubolino per l'aiuto la compartecipazione la preparazione e tutto penso di dover assolutamente ringraziare anche la luna impresa sociale per l'ospitalità l'uso della stanza e quant'altro mi pare giusto è doveroso grazie a tutti 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 grazie a tutti